Gli chiamo in un videogioco dove tutto si ripete ciclicamente Ci sono player one e personaggi non giocanti che tengono in piedi la matrix E tu che cosa sei? Da che parte stai? C'è un grande multiverso là fuori fatto di luci e colori Effetto Mandela ci confonde, reality shift e funzioni donne che collassano Creando quella che tu chiami realtà, che tu chiami realtà La verità nessuno la conosce, probabilmente nemmeno esiste La vita è fatta di punti di vista Ed eccoci qua, buonasera, benvenuti o bentornati come sempre a un nuovo episodio del Punto di Vista Ringrazio subito tutti quelli che si sono appena connessi E tutti quelli che arriveranno poi nel corso della serata Nel corso di questo venerdì Che è tornato un po' diciamo alle origini del Punto di Vista È tornato un po' con determinante prospettive per una serata insomma scoppiettante Insieme anche a tre amici che era da un po' che non ci riunivamo Anzi in realtà Stefano e Riccardo ultimamente stavano facendo diverse cose Io avevo fatto un po' di cambiamenti Quindi stavo cercando di rimettere insieme un po' di ricerche anche E di ricercatori E alla fine eccoci qua Il termine che a Riccardo piace moltissimo proprio quello di ricercatore Quindi io intanto do un saluto in senso orario sostanzialmente Da Francesco Fiorucci di Origini Ancestrali Ciao Franci, come stai? Ciao Adri, sto benissimo Finalmente è un piacere essere di nuovo qui dopo tanto tempo Un saluto a te, a Stefano, Riccardo È veramente un piacere essere qui con voi questa sera Saluto tutti coloro che ci stanno seguendo in chat Che sono tantissimi e sempre pronti ad aiutarci Comunque a dire anche i loro pensieri molto interessanti Molto bene, molto bene Sotto abbiamo un amico che non passava di qua da un po' Quindi io gli do un grandissimo bentornato a Riccardo Cronciu Ciao amico mio, come stai? Ciao Adrian, io sto bene, grazie per l'invito E un saluto a tutti i presenti Anche a Francesco, Stefano, che vedo spesso Per fare sempre diretto insieme A proposito anche domani siamo insieme a Cardano Niente, che dire, oggi la puntata sarà un argomento abbastanza interessante e personale Penso per ognuno di noi Perché ognuno di noi alla fine ha il proprio punto di vista Diciamo così In base alle proprie conoscenze Ma soprattutto se uno magari ha viaggiato Ha visto un pochettino come sono le strutture che ci circondano E che sono onnipresenti ovunque nel mondo Anche nei posti più disparati Poi si rende conto che la storia che ci hanno raccontato alla fine non torna Per cui stasera parleremo un po' meglio Bene, bene, ottimo E poi sotto a me c'è un amico che ormai conoscete qua Il punto di vista è stato, insomma, per tantissime puntate Tra l'altro anche al festival del soverismo Di cui uscirà tra poco anche il video Che era stato registrato della conferenza Di Stefano Guidi Ciao amico mio, bentornato Ciao Adrian, ciao Francesco, ciao Riccardo Buona saluta a tutti E niente, siamo qua Bene, bene, ottimo, ottimo Tra l'altro ho visto che te sei tagliato i capelli Quindi hai cambiato l'unque proprio Sì, ho dovuto tagliarli Non perché mi hanno costretto Ma perché dovevo Dovevo tagliarli Perfetto, perfetto Bene, allora Sì, intanto io ti mando il messaggio di Roberto Che dice Gran bel taglio dei capelli Stefano Ti ringiovanisce Mi accodo a quello che dice Roberto Comunque Insomma, siamo arrivati a un'idea in questi giorni Che era quella di portare una, diciamo, un'analisi Dei nostri punti di vista Riguardo a un concetto appunto Che a noi sta molto a cuore Come dice Riccardo Il concetto della falsificazione della storia Quindi c'è ormai di tutto in internet Si trova a qualsiasi cosa A volte con la sensazione che sia anche troppo E quindi io mi chiedo effettivamente Se vengono utilizzati determinati filtri Di determinate consapevolezze Di determinate cose Per comprendere effettivamente Quando una informazione può essere anche vera Oppure spinta apposta Perché va semplicemente contro il sistema Perché molte volte, diciamo, il ricercatore In questi ambienti Pecca un po' di questa modalità Cioè andare a favore di qualcosa Specialmente perché va contro il sistema Ma è quindi, diciamo, cadere a volte in delle trappole Ci sono accaduto anch'io, per esempio E penso che Tartaria sia una delle cose più banali Gli ultimi periodi In cui ci sono cadute tante persone Secondo, chiaramente, il mio punto di vista E quindi mi avevo detto Sentiamo Francesco, Riccardo e Stefano Cosa ne pensano di questa mia analisi? Diciamo, e Riccardo è partito subito Dicendo La storia è tutta falsa Non ce n'è De cose Che possono essere, diciamo, veritiere Quindi ecco Da questa cosa Io vorrei sentire Riccardo Vorrei partire da lui Quindi Per te Riccardo Allora alla fine La storia è tutta completamente da riscrivere Tutta Bagliata Allora Alla fine io Esprimo dei miei giudizi personali E per cui Non è che dico Che la storia è falsa Per forza è tutta falsa C'è chi ci crede Però Se io Quel poco che ho studiato di storia Da piccolino Crescendo E già da piccolo Osservavo delle incongruenze clamorose Tipo le cattedrali Tipo Che ne so Ma anche Anche i palazzi O Gli edifici antichi Presenti nella mia città Fin da piccolo I racconti Non mi tornavano Non mi so Mi so se avrei immaginato Questi qui Con il carretto e i buoi Il fango Senza strade Che portavano questi massi giganti Che costruivano queste cattedrali Facevano questi affreschi Incredibili Cioè sono cose impossibili Anche da pensare Io da piccolino Non ho mai creduto Neanche a Babbo Natale Per esempio Quindi Dico che Secondo me È tutto falso Perché Oggi come oggi Scopro I più grandi inganni Quali sono Innanzitutto Secondo me Sempre il mio punto di vista La forma della terra Dove mi trovo Ok Tutto quello Che mi circonda Così come me l'hanno raccontato Anche Gli ultimi Quattro anni Che abbiamo visto tutti insieme Abbiamo visto Queste falsità L'11 settembre Che sono i fatti storici Più clamorosi Quello che sta succedendo adesso In Ucraina Nella Sicilia di Gaza In Siria In tanti posti Alla fine Tu sai La storia Già quella che conosciamo noi Quella moderna E quella contemporanea La manipolano Così Nel presente Quindi Immaginati come può essere Manipolata Una storia di cento anni fa Poi quando si va ancora più Arretrato nel tempo Duecento anni fa Poi quando ti raccontano Le storie millenarie Allora ciao E lì è un po' come Dal mio punto di vista Quando si parla Delle stelle nel cielo Lontane Milioni di anni in luce Cioè chi ci crede Io non ci credo Tanto più lontana Grande È una cosa Secondo me Tanto più È indimostrabile E tanto più probabilmente È falsa Quindi parto dal presupposto Che Dal mio punto di vista La storia è tutta Completamente falsa Poi magari c'è Un evento storico Che è successo In un certo modo Che viene raccontato Sempre manipolata Seconda di chi Ne trae vantaggio Di chi sta governando In quel periodo Che però Come comunque Abbiamo visto Che bene o male C'è un potere unico Che governa E amministra Tutto il mondo In un certo modo E quindi Sì Ci vuole poco Dal mio punto di vista De programmarsi Basta partire Da un concetto Dopo che mi hai mentito Su cose fondamentali Perché io devo credere Che mi hai raccontato Qualche cosa di vero Per cui Non so quale può essere La cosa vera E non so quale può essere La cosa falsa Quindi per me È tutto falso Cerco di immaginare Io come potesse essere Un tempo La vita Vedendo quei palazzi Pensando a che tipo Di tecnologie Avrebbero potuto utilizzare Per costruirli In modo però Logico Plausibile Quindi mi immagino Grandissime tecnologie Una progettazione Fatta con dei computer Con delle stampanti laser Non so Una realizzazione Magari di blocchi In determinati tipi Di fabbriche Poi porrate Nel sito E assemblate Cioè ci sono delle geometrie Perfette Incredibili Che non possono aver fatto Nei tempi Che ci raccontano Con le tecnologie Le conoscenze I mezzi Che ci raccontano Cioè anche semplicemente A livello di progettistica Figuriamoci a livello Di realizzazione Considerando poi Che ci dicono Che vivevano in condizioni Che ci dicono Avevano tanti schiavi Sì però Di schiavi come te l'immagini Ai tempi In condizioni disumane Morendo di fame Completamente ignoranti Quindi non ci possono Nei che spiegare Dimostrare Che è plausibile Che tantissimi schiavi Oltre a riuscire A realizzare Un'opera Irrealizzabile Poi hanno fatto anche Tutte quelle decorazioni Tutti quegli affreschi E non possono attribuirli Tutti a un unico Personaggio storico Che è Ok Il Bernini Tutti questi Tutti questi personaggi Che ci hanno raccontato Secondo me Sono tutti personaggi Di fantasia E ripeto Più va indietro nella storia E più è falso Poi come Francesco Meglio di me Spiega Su Su suo canale E anche quando fate Le vostre dirette Che alla fine Già ci sono mille anni Di storia Che sono proprio Incollati così Non si sa Dove E poi vai a vedere Anche le storie Delle religioni È sempre la stessa storia Manipolata Cambiata Sostituita Cambiano i nomi Ma alla fine È sempre quello E poi anche Come gli ultimi Avvenimenti Gli ultimi racconti Che stiamo facendo Anche con Dana Con Stefano Di una narrazione Completamente diversa Eventi Che si sono svolti Non tantissimo tempo fa In una zona particolare Del mondo Che è quella russa Cioè Insomma Ci sono tantissime Tantissime incongruenze Che però Riportano sempre A tutta A un'unica storia Che viene narrata In tempi Come se fossero Diverse storie In tempi diversi A cadute In posti diversi A popoli diversi Invece non è così È una storia Molto più recente Di quella che ci raccontano Che Che poi A seconda Delle Delle aree geografiche Dello sviluppo culturale Di quelle aree geografiche Hanno deciso Di Manipolarla E renderla Plausibile Per quel Per quel Per quel determinato posto È per quel determinato popolo Ok Chiarissimo Chiarissimo Ma Stefano Io vorrei arrivare Da te Con una domanda Che arriva Anzi Con una Affermazione Che arriva Da Zorro E dice Ormai è quasi impossibile Distinguere il vero dal fazzo Viviamo di congetture Cosa ne pensi tu Di questa Di questa affermazione Proprio Proprio per questo Mi sentite bene? Proprio Per questo È come per me Un ritorno Alla realtà Qui non c'entra niente La spiritualità O tanti discorsi Che sento Per me Rianalizzare tutto Vedere perché ci hanno dato questi social Queste informazioni E poi è stato come svegliarmi Da un sogno Nel sogno Ci sono dei punti fermi Ma è È tutto altamente falsificato Anche la stessa antistoria Consideriamo che qui parliamo di migliaia Di scrittori Che hanno riscritto letteralmente tutto Noi sappiamo che Fomenko Io dicevo Lecchenko Invece l'altro si chiama Francesco Fomenko Nozowski Si sono fermati Al 1800 Gli ultimi 200 anni E forse è per questo Che sono ancora vivi a Begge Di Mosca Non l'hanno menzionati Quindi Sto facendo un lavoro Un po' certosino Per cercare Di vedere un qualcosa Che potrebbe Gettare anche un'altra luce A tutto quello Che noi come antistorici Stiamo studiando Nel senso che Migliaia di scrittori Negli ultimi 200 anni E specie negli ultimi 100 Hanno letteralmente Riscritto la storia E l'antistoria Ci sono dei punti fermi Come Che tutti gli edifici Che conosciamo Quelli classici Sono tutti edifici Eterici E che rilasciavano Energia In questo caso Si può dire Gratuita Che l'acqua Era indispensabile Eccetera eccetera Poi leggerò proprio Queste cose In ogni caso Immaginate Che Tutto questo Secondo Appunto Questi Questi nuovi documenti Queste Questa Questa cosa Che non è nuova Ma che viene detta Ma Per motivi Di conforto nostro Non abbiamo messo In chiaro Si parla che Tutto questo È stato veramente Che è finito La loro conquista Nel 1944 Quindi praticamente Ancora nel 1940 Quindi la seconda Guerra mondiale La prima guerra mondiale Quello che c'è in mezzo È stato Falsificato Anche quello Quindi ci ritroviamo Di fronte A un A un percorso Che non possiamo dare Nulla per buono Ma sicuramente È realtà Questa è Reale Qui non parliamo De new age De spiritualità Non parliamo Della centratura In se stessa Chi è Chi arriva alla centratura E magari È in grado Di volare Noi non possiamo Vedere Il nostro lavoro Principale Per arrivare A un certo tipo De centratura È quello Di svelare L'argano Degli ultimi anni Di questi ultimi anni E addirittura Si parla Che per me È stata Una cosa Più devastante Della scoperta Della forma Della terra Che non era Quella palla Assurda Che gira Su se stessa Fiandata Nello spazio Per me È ancora più Assurdo Vedere Nozioni Andare Analizzare Nozioni Che parlano Addirittura Io sono andato A rivedere Filmati O qui Foto Tutto quanto Mi sono veramente Messo a guardare O anche molti Sull'Umbria Su Venezia Del fatto Che la chiesa Addirittura Era un movimento Come ce ne sono tanti Ma è diventata Effettivamente Chiesa Con il primo Papa Solo Nel 1928 Quindi Immaginate Quante altre Rivelazioni Di questo genere D'altro canto Il 1928 Con il concordato Con i patti Lateranensi E praticamente Anche la stessa Storia Della chiesa E quindi Noi sapevamo Che il Vecchio testamento Era Più recente Del nuovo Scritto Alla fine Del novecento Del 1900 Quindi Immaginate Che il lavoro Certosino Hanno fatto Questi migliaia Di scrittori Che io rivedo Adesso In tutti i miei Libri letti Rivedo Come stanno Sui tempi E con Adesso Hanno abbracciato Tutti i mosti Sacri Anche le teorie Gender Il transumanesimo In atto Quindi ci vuole Un attimo Per loro Per riportare Tutto questo Ma in ogni caso Leggo questa cosa Sempre presa Da una branchia Che si rifà Anche Alla Alessandra Alessandra Pisisca Come si chiama Che avevamo visto Condana Ma che in ogni caso Viene da Teblo Da Marciana Maio E vorrei dire Che tutte le città Erano fortificazioni Stellari Che abbiamo avuto Energia gratuita Sin dalla creazione Del mondo Del mondo Che ci interessa E quindi parliamo Di 600 anni fa Che tutte le cattedrali Chiese Sinagoghe Abbazie Monasteri Erano centrali Elettriche Che in tutte le centrali C'erano organi E canne Che l'acqua Che circondava Tutte le strutture Aveva una funzione Essenziale Che le fordezze Perdevano Il loro potere Quando i fossati Si asciugavano Che l'acqua Ed etere Sono stati diversi Dello stesso Sono stati diversi Dello stesso elemento Che gli ioni Sono l'elemento Primordiale Dell'etere universale Che l'acqua Ed etere Sono connessi Per fornire E fornire Energia dagli ioni Che le colonne Erano bobbine Che il mercurio Mantiene una corrente Perpetua di energia Essendo essenziale Nella produzione Di energia gratuita Perciò è stato bandito Che l'oro e il mercurio Aiutano a mantenere L'energia Perpetua in movimento Che gli archi Trionfali Gli obelischi Erano magneti Di energia Che le griglie Di ferro E l'antenne Creano una connessione Cielo-terra Che tutte le rodonde Erano stazioni Di teletrasporto Che la civiltà passata Era alimentata a vapore Che la terra È un oggetto a toro Simile ai reattori A fusione Che tutti Tutti gli architetti Del passato Non esistono Che tutte le ricchezze Della civiltà passate Sono state rubate Da questi vermi Che tutta l'architettura mondiale È stata occupata Dal nemico Che gli edifici Costrisce bianche e rosse Erano legati Alla produzione Di energia E che tutti gli stili Architettonici Sono sulla stessa Linea temporale E che tutte le civiltà Passate Sono fittizie Quindi praticamente Come vedete Ci sono Per ipotesi Delle basi Da cui partire Che non si discostano Molto da quello Che avevamo visto Ma in ogni caso Ora bisogna vedere Lascio la parola A Francesco Questi ultimi Duecent'anni Perché Questi ultimi Duecent'anni Implicano anche Il fatto Che potrebbe essere Un falso Tutto quello Che ci hanno propinato Fino adesso Quindi A voi la parola Vai Francesco Franci A te la parola Allora Effettivamente Perché poi qui Sorge Un fatto interessante Nel senso Che effettivamente Allora Io sono convinto Che Tutto quello Che Si introduce Di nuovo Di teoria O quant'altro Ma anche La nuova storia Che è stata introdotta Che può essere Che è rivelata A noi Come falsa Si basa Su qualcosa Perché Penso Ritengo C'è impossibile Inventare Di sana pianta Un qualcosa Quindi dal nulla Quindi come ha detto Anche Riccardo Prima Qualche evento Storico Effettivamente Ci potrebbe Ci potrebbe essere Stato Da lì All'effettiva Vera Interpretazione Di quello Che è successo Ce ne passa Perché poi I vari documenti Sono stati Rimaneggiati Quelli Comunque Originali Magari Si sono persi Sono stati Conservati Messi Segregati Da qualche Altra parte Quindi Ma questo Noi lo vediamo Tutte le copie Di quegli De quei libri Antichi Cosiddetti Di quegli autori Antichi In realtà Noi abbiamo Solamente Copie Molto Tarde Quindi Gli originali Non sappiamo Nemmeno Se esistono Appunto Oppure Se sono stati Distrutti Questa è la fine Che hanno fatto Molti Documenti Ecco Però Quello Che fortunatamente Si è visto In questo senso E che lo possiamo Misurare Che effettivamente Una buona parte Del manuale Di storia Su cui si fonda La nostra storia È stata Falsificata Cioè Creata Sulla base Di rimaneggiamenti Diciamo Creati Da eventi E personaggi Che sono Vissuti In quelli Che noi possiamo Definire I tempi Medievali È stato visto Che poi Dal Sostanzialmente Dal Diciassettesimo Secolo In poi Non sono avvenuti Più Rimaneggiamenti Quindi In teoria Effettivamente La storia Dal 1700 In poi Possiamo Dire così Dopo la morte Di Petarius Che è stato L'altro Insieme a Scaligero Che ha prodotto Il manuale Di storia Scaligeriana Non si sono Più registrati Degli spostamenti Cronologici Quindi Non è stato Misurato Nessuno Spostamento Cronologico Nessun Rimaneggiamento Quindi Si Suppone Sempre Tra mille Virgolette Che la storia Dal in poi Abbia seguito Il suo Percorso Naturale Cioè Non ci siano Duplicati Dal 1700 In poi Però Da lì Ha Effettivamente Avere Il quadro Della situazione Chiaro Nel senso Avere Chiare Le dinamiche Del perché Si sono svolti Determinati Eventi E quant'altro Ce ne passa Infatti Questo L'ho specificato Molte volte Anche io Nei miei video Nel senso Comen Kronosowski Nel momento In cui hanno Analizzato La storia Hanno visto Che Questi duplicati Si interrompevano Poi Nel 1700 Dopo la morte Di Petarius Da lì in poi Loro sostengono Ma perché Loro hanno Una mente Analitica Da matematici Voglio dire Quindi da statistici Hanno Evidenziano Come la storia Da lì poi Non abbia nessun problema Però Ho anche detto questo Ho detto che Noi sappiamo bene Come in realtà Il processo Di falsificazione Storica Non è mai Finito Continua ancora Tuttora Oggi Al tempo È continuato Fin da quando Poi La chiesa Ha fatto partire Famosi Come posso dire Coloro che Andavano Magari Per le zone Sperdute A portare Il nuovo messaggio Evangelico Per indottrinare Le popolazioni Magari Che fino a quel momento Erano libere I famosi Adesso non mi viene Il termine Insomma Però Si è verificato Un processo Continuo Di cambiamento Modifica Della storia Quindi Effettivamente Anche in questi ultimi secoli Non possiamo dire Di avere una storia chiara Perché Come sappiamo Le trame Tra virgolette Del potere Sono Molto Importanti Muovono gli eventi Da dietro E quello che arriva Alla massa Molto spesso Non è Il vero significato Di quello che sta Accadendo Però mi sono accorto Almeno Per quanto riguarda me Che Guardando ad un certo tipo Di storia Indietro Che Nei suoi eventi Nella lettura Degli eventi Differisce Da quella Ordinaria Il perché Stanno accadendo Determinate Cose Nel presente Anche a livello Geopolitico Si riesce a comprendere Molto bene Si riesce a comprendere Anche l'origine Di determinate famiglie Che sono Dietro Al sistema Senza contare Il fatto Che Questo è un aspetto Secondo me Molto Importante Se proprio Devo dire Un aspetto Che a me Sa Fa sullo In parte Riguardo Agli eventi Storici Sono Le continue Lotte Che possono Esserci Ovviamente Perché Tra famiglie Comunque L'eliti Ci stanno Però Queste continue Guerre Raccontate In modo Convenzionale Perché Io sono convinto Che tra di loro Comunque Ci siano Anche in parte Delle formalità Contrattuali Nel senso Che per un periodo Governa Uno Poi Ad un certo punto Questo c'è del passo Ad un'altra famiglia Infatti abbiamo visto Come ad esempio Magari Nella storia Anche in ambito Nuova cronologia Per un certo periodo È stata La chiesa Ortodossa Cristiana Comunque Cattolica Ad avere un certo tipo Di potere Poi È prevalza La controparte Atamana Ottomana Anche se inizialmente Non era di stampo Musulmano Per come noi Lo conosciamo Oggi Ma Era sempre più Di stampo Ortodossa Anche se le due fedi Inizialmente erano unite Poi a seguito Diciamo Della Della divisione Tra le due religioni La parte musulmana Ha preso sempre di più I caratteri Della fede musulmana Che noi conosciamo Oggi Infatti anche per questo Che vediamo In tutto il mondo Un'architettura È molto Arabeggiante Mettiamola così In stile musulmano Perché a parte Appunto Di quella conquista Ottomana Che poi Ha portato Un certo stile In giro Per il mondo Quindi C'è anche questo Fatto E quindi ecco Secondo me Diciamo Si parte da Da degli eventi Che possono essersi In parte Verificati È chiaro che oggi Noi abbiamo Delle testimonianze Che sono state Riscritte Dai vincitori Però Alcune Alcune fonti Che ci mostrano Appunto Come posso dire Delle letture Differenti Di quello che è successo E ci permettono Di capire Come posso dire Come possano Assersi verificati Degli eventi Sono sopravvissuti Secondo me Questa è un'ottima base Che ci permette Di ripartire Capire effettivamente Come potrebbe essere Andata Quella storia Che noi conosciamo La versione Generalmente Accettata Della storia Però potrebbe essere Andata in modo Differente Rispetto a come Ce l'hanno fatta Conoscere Poi Come dico sempre io Oltre anche Alla versione Alternativa Della storia C'è la storia Dell'uomo Che sta in mezzo A quella di queste Famiglie Che da sempre Hanno fatto il loro Porco Comodo E si sono Fatte passare Come Le divinità In cielo A cui l'uomo Doveva sempre Pregare Comunque Fare sacrifici In loro onore Piegarsi Sempre a loro E l'uomo Ha avuto sempre Un ruolo Di margine Quindi Proprio di confine Come se non contasse Nulla Ecco Lì c'è una storia Che va effettivamente Portata Ancora di più In superficie Ovviamente Non lo possiamo chiedere A Fomenco A nessun altro Ricercatore Secondo me Qui sta ad ognuno Di noi Nella nostra Proprio interiorità Scavare nel profondo E cercare di farla Riemergere E Come effettivamente Stefano Riccardo Hanno detto Comunque anche Guardando Agli edifici A cose che si possono Trovare in giro Alla fine si riesce A capire Che effettivamente Quello che c'è Sul territorio Un po' È stride Con quello che viene Raccontato Sui documenti Cioè le versioni Cambiano le versioni Ecco Diciamo L'utilizzo Di determinati Di determinati edifici E determinate cose Che possono esserci Sulla superficie Quindi bisogna cercare Di discernere un po' Cercare di capire Effettivamente Dove può stare La verità Perché io sono convinto Un po' come lo yin E lo yang No? In una parte di buio C'è sempre Una piccola parte Di luce E viceversa Quindi non è tutto Completamente Da buttare Il segreto Sta nel Riuscire a ritornare A scavare Il più possibile Cercare di recuperare Laddove è possibile Quel messaggio Originario Che si è andato A perdere Perché nel tempo È stato edulcorato Da altre cose Che sono state Messe Messe sopra Però secondo me Quel messaggio originario Ancora C'è Ovviamente Non è semplice Farlo Però Io sono convinto Che a forza Di ricercare Piano piano Ce la facciamo Ad avere Almeno una parvenza Delle basi Solide Solide E dei punti Fermi Per dire Ok La forma della terra È questa Ok Gli eventi Sono andati In questo modo L'uomo è decaduto Dalla sua condizione Originale In questo modo E quant'altro Sono sicuro Che piano piano Ce la facciamo Ad arrivarci Molto interessante Intanto io saluto Anche l'amico Dave 80 GS Ciao Dave Un abbraccione Saluto anche Enrico e Stefano E Sì È molto interessante Questa Questa situazione Anch'io dico spesso Che Insomma Non è che magari Bisogna proprio Buttare tutto Perché comunque sia Bisogna intanto Anche conoscerlo Quello che Diciamo È La storia ufficiale Per poterla In qualche modo Poi Analizzare Da altri punti di vista Perché se si parte subito Senza conoscere Qual è quella storia ufficiale Penso che non è che poi Più di tanto Andare a creare No? Nuove ipotesi Io per esempio Tra l'altro Un pochino Me ne dirò forica Questo discorso Perché Non ho mai Studiato la storia In quanto A scuola Mi annoiava Ti insegnavano Le date Ti insegnavano i nomi E tu te dovevi ricordare Solo quelle cose lì Era poco Diciamo attraente Come Per me almeno Come materia Poi nel corso del tempo Ho visto che tante cose Non tornavano E allora ho iniziato A fare degli studi Leggermente più approfonditi Ma quello che Mi ha spinto Tantissimo Ad andare avanti Sono stati Alcuni viaggi Alcune persone Che ho conosciuto Alcune esperienze Che ho vissuto Mi hanno fatto capire Che c'erano delle cose Assolutamente Che non Che non c'entrano Niente con la storia Dietro a me Che quella Almeno che io Avevo conosciuto Fino adesso Poi sono entrato Nel mondo Dell'informazione Alternativa Ho conosciuto Diverse persone Studiosi Ricercatori E quant'altro E si è aperto Un mondo Anche Dall'amico Per esempio David Wells Piuttosto che anche Da Stefano Riccardo Francesco E tanti altri Che nel corso Del tempo Ho conosciuto Alcune volte Però ho avuto La sensazione In alcune Diciamo Cose In alcune Non so Magari erano Delle mie mancanze Però in alcune informazioni Ho sentito Come una sorta Di inquinamento Nel senso Che Facciamo un esempio Il discorso Degli edifici Eterici Io Sono pienamente Convinto Che siano stati Proprio così Come Li ha prima Descritti Stefano Che ha fatto Una piccola Ma incisa Diciamo Breve ma incisa Descrizione Di un ambiente Tecnologico Completamente diverso Da quello Adesso E che comunque Sia era Nel passato Quindi Insomma Un po' difficile Da comprendere Per chi non riesce A vedere Tutto un altro Tipo di Storia Ecco Io questo Lo vedo Molto plausibile Ma vedo anche Per esempio Da un'altra parte Che molto spesso Noi Dimentichiamo Delle cose Che Che vengono Sostituite Con altro Per esempio Adesso c'è Quest'idea Dell'energia Libera Dell'energia Free Dell'energia Graduita A tutti quanti Che Che in un certo senso Si contrappone A quello Che oggi È il concetto Dell'imbrigliamento Nei fili E la vendita Dalla parte del privato A colui che ne soffluisce Però C'era anche Un'altra realtà Per esempio C'era la realtà Del gas C'era C'era C'erano Le prime imprese Minerali Che hanno sviluppato Un periodo Molto lungo Dove si utilizzava Il gas Dove venivano fatte Le tubature Sotto le città Che andavano Attraverso Per esempio Anche i vari canali E arrivavano Come per esempio Ci ha detto Di Filippo Drusinin A questi forti A stella Che molto spesso Erano proprio Delle centrali Di pompaggio Del gas Stoccaggio Pompasso E pompaggio E anche di distribuzione Attraverso le varie tubature Sotto terra Che si attaccavano A tutte le case Tant'è che In Inghilterra Ancora per esempio Abbiamo dei lampioni A gas Ci stanno dei lampioni Che ancora sono presenti E allora mi chiedo A volte E questo parto Con Riccardo Noi tante volte Magari non abbiamo Determinate conoscenze Per esempio Io non so Un costruttore come Stefano E tante cose Non le posso capire Non le posso Non sono stato in cantiere Quindi non le posso capire Non sono elettricista Non sono idraulico Quindi tante cose Non le riesco Comprende Però magari Quando mi affaccio A determinate ricerche Con qualcuno Che capisce Quell'ambiente lì Vedo che Ci stanno tanti dettagli Che io ho perso E credo che Proprio in quei dettagli A volte Il controsistema Si infiltri Per metterci dentro Delle informazioni Completamente diverse Non so se mi so spiegato E allora mi chiedo Che ne pensi Tu di questo Ric È così Oppure No Guarda Sinceramente Adesso Poi mi ricordo Anche Una cosa Che stava dicendo Francesco Ok Perché io di storia Ne so poco e niente Però un pochettino Di economia Bene o male La so E penso di averla capita Quindi alla fine Parliamo di una cosa Molto pratica Che si rivede Ripetuta Nella storia Da un certo punto In poi Ok E già lì ti fa capire Anche dalle strutture Che mi stavi parlando Degli impianti a gas Tutte le metropolitane Ti fa capire Che prima dell'ottocento C'era tutta un'altra vita Tutta un'altra storia Che non ci hanno mai raccontato Ok Quindi anche gli anni tolti Da Fomenco Anche quello È tutta È tutto fuffa Ok Perché a me di sentirmi parlare Del Allora Tu mi dici Non è tutto da buttare Se parliamo da questi presupposti Poi vediamo le strutture Che ci sono veramente In tutto il mondo Dai per certo Che c'è stata un'umanità Che a un certo punto È stata eliminata Ok Con Sicuramente Una parte Dell'umanità Che è rimasta complice Che poi ha dovuto Ripopolare E riistruire L'umanità Che c'è stata dopo Francesco Prima Stava parlando Di contratti Ok Siccome siamo in un mondo Globalizzato L'unico globo Che c'è in questa terra È proprio il globalismo Che c'è Da un punto di vista Commerciale Fiscale Legislativo Di norme Vincoli Confini Passaporti Vincoli Per uomini Non ci sono Per le merci Però anche noi uomini Siamo merci Ma siamo particolari Ok Siamo dentro dei governi Che ci governano Siamo di provvedere Del governo Questi sono dati di fatto Basta prendere anche Semplicemente le parole Andare su ricerca Definizione Che cos'è un governo Che cos'è uno stato Che cos'è una nazione E si capisce Che noi non siamo Una nazione Perché una nazione Non prevede un governo Mentre c'è un governo Che ci amministra E se tu vai a leggere La definizione del governo È la definizione Di cittadino Perché noi siamo Cittadini A partire dalla rivoluzione Francese Che in quel periodo lì Si è usato molto Il termine cittadino Ok Proprio per Per fare una distinzione Tra uomo e cittadino Non sei più un uomo Sei un cittadino Quindi c'è Non esiste più il popolo Ok Quindi E tu vai a vedere C'è stato un momento In cui C'è stato un cambiamento Radicale della storia Quindi tutta quella Quella civiltà lì Quelle conoscenze lì Quelle memorie lì Quei video Perché io sono sicuro Che loro avevano immagini video Avevano internet Come ce l'abbiamo noi Anche migliore Avevano Delle 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 tecnologie pazzesche Che Che c'erano già Ok Non so Poi parliamo di tartaria Non voglio fare queste Queste minestroni Perché fondamentalmente Però sappiamo che c'è Una storia mai raccontata Di una civiltà Con delle tecnologie particolari E da un certo punto Da un certo punto Della storia in poi Quella che ci narrano a noi Che poi Sono gli stessi narratori Dei romani Dei greci Dei E di tutte queste Queste storielle Di questi popoli Che per me ormai Sono da tempo storielle Ok Io devo credere A costoro che sono comparsi All'improvviso In città deserte Dove c'era stata Già una grande distruzione Un mod flow Chiamava Successivo O durante Questo grande cataclisma Indotto Natural Impossibile Però Quindi Tutta la storia precedente A duecento anni fa Che già questi ultimi duecento anni Sono quelli che possiamo più Capire In teoria Perché sono quelli più vicini a noi Quindi sono quelli Dove poi possiamo reperire Più immagini Video Che ci sono rimasti Perché tutte le immagini precedenti Come questa umanità È un attimo A cancellarla È tutto quanto ormai Digitale Tutto quanto in file Le nostre foto I nostri profili social A noi Far sparire tutti quanti noi Con una stratagemma Qualunque Tipo C'è un attacco nucleare Tutti giù Nelle catacombe Ok Ci fanno sparire in un attimo Con un pulsantino Cancellano tutti i nostri file O comunque Li salvano nel loro server Alla futura Umanità Danno La stessa tecnologia Ma con dei device Con del Anziché il computer Un'altra cosa Con la stessa funzione del computer Ma diverso Quindi tu Che non conosci Quella tecnologia antica Precedente Non potrai mai vedere Quei video Quelle foto Quelle immagini Che ci sono Secondo me c'è qualcuno Che conosce benissimo Qual è il passato Che lo vede Con i propri occhi Ma non perché c'ha un Un visore Che torna indietro nel tempo Semplicemente perché hanno Le immagini Le immagini Da sempre Tutte le tecnologie Che ci hanno fatto vedere Nei film di Star Trek Il teletrasporto E perché no Ma a chi è che è venuto in mente Che si poteva inventare Una tecnologia così Se non a uno che sa Che già esiste Una tecnologia del genere O che ne so Le spade laser Di Guerre Stellari Quando si sparano Si sparano Raggi laser Ai tempi laser Tutti usavano La parola laser Però Perché cosa Lo associavi tu In laser A Guerre Stellari Però in realtà Ci potevano essere Armi Completamente diverse Tecnologie Completamente diverse A noi ci danno Armi giocato Con il confronto Tant'è che quando Devono farci fuori O devono fare I loro intenti Secondo me Usano le loro armi Energia diretta Tipo Nagasaki Hiroshima Tipo Maui Tipo Los Angeles Tipo l'Australia E quindi Io butto via Tutto quello Che ho fatto Finta di studiare E quello che cerco Di capire Invece Come siamo messi Oggi Oggi siamo messi Con degli invasori Che sono arrivati Da un certo punto In poi Della storia E che hanno Iniziato a far ripopolare Quindi facendoci portire Da uno stadio Medioevale Il famoso Medioevo È durato poco tempo È durato dai nostri Bisnonni A praticamente noi Poco prima di noi Ok Quindi stiamo parlando Di quello A cancellare Tutte le memorie Passate un attimo E i nostri I nostri Guardiani I nostri Aguzzini I nostri governanti Non sono millenari Non è un potere millenario Che ci vogliono far credere Che tu pensi Eh ci governano Da mille anni Figurati se arrivi tu Signor Nessuno E spodesti questo governo Ti vogliono far credere Quello Perché così dici Ah perché se sai Che sono arrivati L'altro giorno E che stanno cercando Ancora Perché non sono ancora Riusciti a Impossessersi Tutto il mondo E devono essere Sempre subito lì Per quello che abbiamo Ancora un po' Di liberarmi Abbiamo ancora un po' Di libertà A fare E dire Quello che facciamo O ancora a viaggiare Ma questi in un attimo Ti possono ritogliere tutto E ci fanno ripartire da zero Ok O quelli successivi Sicuramente non buttando Le bombe atomiche Ok Come ho già detto prima Cioè bisogna anche Cercare di immaginare Capire come potrebbe Come potrebbe essere Che ci sono milioni E milioni E milioni Di scheletri umani Perfettamente puliti E posizionati Al di sotto delle città Che poi non sono Al di sotto delle città Sappiamo che sono Sono le città Sono coperte Noi siamo in uno strato Sopra A quelle che erano Le città Di prima Ok Parigi Londra Ma anche se vai Edimburgo Tutti questi posti qua Poi non combaccia nulla Tu vai a vedere Edimburgo Ti dicono Questi palazzi Sono stati costruiti In quest'epoca Tu fai a vedere In quel periodo storico In cui ti dicono Che sono stati costruiti Tutti quei palazzi In teoria La popolazione Era pochissima E c'era la peste Che stava uccidendo Il resto della popolazione Quindi erano tutte le immagini Ignoranti Che stanno morendo E questi in quel periodo Stavano costruendo Non torna nulla Quindi io butto via tutto Personalmente Poi ognuno è libero Di fare quello che è E cerco di fare Un ragionamento logico Contratto Quando ti fanno Il contratto di guerra Era un contratto La guerra Come un contratto La pace Come un contratto Il tipo di resa Che può essere condizionata O incondizionata Come un dato di fatto Storico E un contratto siglato Nel 1943 L'Italia ha firmato A Cassibile La resa incondizionata Agli americani Quindi l'Italia Aveva già perso la guerra E si era già consegnata Completamente agli americani Che hanno continuato A fare quello che dovevano fare Cioè continuare a Distruggere il più possibile Cancelare il più possibile Terrorizzare il più possibile Le persone E fargli credere Che qui sarebbero arrivati A salvarli Invece sarebbero arrivati Col nuovo sistema economico Che sarebbe stato Capillarizzato Perché loro Speravano già Delle tecnologie Che poi piano piano Avrebbero instillato In tutta la popolazione Che gli serviva numerosa Per ricostruire Perché ci hanno sempre Utilizzato per quello Nel momento in cui Noi ci hanno fatto evolvere Ne andiamo storti Quindi hanno fatto Tutto quello che Che fanno Contro la nostra famiglia Per cercare di Diminuirci sempre di più Come numero E sostituirci Piano piano Senza che noi Ce ne accorgiamo Da decenni Che giorno per giorno Entra qualcuno Da qualche altro paese Che non sa nulla Della nostra storia E che in un attimo Una volta che noi Non ci siamo più Questi Si ritrovano a vivere Ne nostre case Tra virgolette Le nostre case Non è un discorso Razzistico Ma è un discorso Semplicemente Di flusso È tutto fluido È tutto un flusso La storia L'economia È tutto ciclico Come sono cicliche Le popolazioni È le razze I colori Che poi abitano Direttamente Città E quindi Nessuno sa Nulla Della storia Dell'edificio Che c'ha A fianco a casa sua Da quando è nato Del nuraghe Che c'è Nella campagna Vicino a casa mia E gli dicono Che l'hanno fatto 5-8 milioni Di anni fa È magari Una cazzata Perché magari L'hanno fatto 350 anni fa Ok Cioè Tante cose Io ormai Non credo più a nulla E so benissimo Che io potrei dire Una marea di stupidaggi Ok Però Nessuno mi può smentire Io non posso smentire Nessuno Però io ragiono per l'oggi Che dico Sì Siamo Siamo in mano A questi qui Che hanno privatizzato tutto Un mondo libero Con energia libera Dove c'era Equità e giustizia Che è stato Infiltrato Da una parte Che è bramosa Che diceva Vogliamo questo stesso mondo Dove noi siamo i padroni E c'è l'altra parte del mondo Che sarà nostra schiava Perché privatizzeremo tutto Dall'energia A cose E poi metteremo anche le tasse E poi priveremo la proprietà Tutti La chiameremo proprietà privata E la gente si comprava Una proprietà Che è già privata Di partenza Dove pagherà La tassa all'acquisto La tassa durante La sua esistenza in vita Finché ce l'avrà E la tassa Alla sua morte O alla sua cessione Perché è stata venduta E quindi Capiamo Siamo dentro una società Veramente Tutta di contratti Dove c'è il teatro di guerra Lo scenario di guerra Quindi quando c'è il teatro di guerra Chiudono quella zona lì Fanno la sceneggiatura Della guerra Che la raccontano i giornalisti Quindi anche la guerra attuale Tu sai che c'è Ok io non lo puoi negare Perché non lo puoi negare L'attività di senegazionista Sì c'è la guerra in Ucraina Però tu non sai Come si stanno svolgendo i fatti Perché tu non ci sei lì Però sai benissimo Che ci sono gli attori Gli attori di guerra Perché è tutto così Tutte le immagini che tu vedi Sono tutte immagini taroccate Immagini fatte Della persone che magari Non sono neanche fisicamente lì Ed è così da sempre Prima guerra mondiale Seconda guerra mondiale Non c'è un'immagine Di quelle che noi abbiamo visto Da quando siamo piccolini Reale Di una vera battaglia di guerra Una vera battaglia Sono tutte immagini riprodotte Quindi io mi chiedo Ma se tutte quelle immagini Sono riprodotte E quanti anni c'è Anziché fare la guerra Qui stavano girando Una sceneggiatura E con questo vabbè Passo la parola a Stefano Che forse mi sono dirungato troppo Però quello che voglio dire Io non lo so Però ragione Ragione Dico È chiaro È chiaro È chiaro Però è sicuro Che a me me le hanno dette Una marea di cazza Per cui mi fermo A pensare così Allora Cerchiamo di approfondire un po' Grazie Adria Intanto diciamo che Ricordiamoci sempre Che abbiamo a che fare Con dei parassiti Non ci sono geni Che hanno inventato niente Noi abbiamo dentro di noi Nel nostro lignaggio Ricordi Di un qualcosa Che ci risuona Ma i personaggi Chiave Di queste cose Che abbiamo dentro Non erano Gli stessi Che ci dicono Appunto I migliaia di scrittori O Scaligero Petavius E poi Quelli che hanno Fatto La voce grossa Dal 1900 In poi Dal 1820 30 In poi Quindi Immaginate Che sì Le cose Che Che ha detto pure Francesco Sulla Sulla Nuova cronologia storica Gli avvenimenti Sono successi Ma Loro Sono stati Furbamente Capaci Di 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 Prendere I ruoli Praticamente Come impersonare Un falso Dio Un falso Dio Prende il posto Del vero Dio Come Il nostro comandante In capo Coordinatore Perché ricordate bene Che quello che noi abbiamo subito Negli ultimi duecent'anni Riguarda Una civiltà Militarizzata Perché eravamo Già in guerra E spaccati Quindi parliamo Di città stellari Di 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 Forti a stella Che Hanno perso Perché hanno perso Il loro scudo Protettivo E c'è stato un momento In cui poi C'era proprio una divisione La linea Magginot Come Le Le Dolomiti Come La linea Sigfrido Come Il vallo Di Adriano Fanno tutte parte Di una Di un muro Con certe Particolarità Che in questo Toroide Sono difficili Da comprendere Ma che creavano Una vera e propria Diciamo Un vero e proprio Scudo Protettivo E ha a che fare Anche col fatto Che vedete Nei filmati Tutta questa gente Con le tube I cappelli Tutti con i cappelli E del fatto Che molta vita Nel periodo Di questi ultimi Duecent'anni Che si è svolta Sotto terra Proprio per protezione Noi abbiamo visto Che il vietano Non ha perso la guerra Perché ha fatto Una guerra Sotterranea Praticamente Ha sfruttato Quelli che erano Appunto Chiamiamoli Cunicoli Chiamiamoli Catabombe Ma in ogni caso Sotto terra C'è un mondo Sotto questa Terra Questa porzione Di terra Che ci riguarda E c'è stato Questo periodo In cui Questa confederazione Di città Badate bene Non federazione Perché Le coordinatore Che in questo caso Hanno preso Hanno rubato il nome Era proprio Michele Si chiamava Proprio Michele Come poi È diventato Il loro Michele Come tutto Il 666 Era un Un rapporto Di energia Potente E se ne sono Appropriati loro Come tutte le cose E quindi parliamo Che a loro Non hanno fatto altro Con tipo Un software Perché qui parliamo Di una tecnologia Altamente avanzata Chi ha lavorato Nello studio Delle bergamene Chi ha lavorato Sa che non ci vuole Niente a falsificare Dei documenti Come Tutte le Le fotografie Che vediamo Della stessa Seconda guerra mondiale Prima guerra mondiale Sono photoshopate Si parlava addirittura Del taglio Della testa In queste fotografie E dell'aggiunta Di altri personaggi Ma a dei livelli Molto Molto Avanzati Rispetto ai nostri E infatti Hanno subito Creato Quell'arte Immaginate Tutta l'arte Deco L'arte nuova Tutto quanto È stato fatto In pochissimi anni Perché c'è una cosa Da dire anche Lasciamo perdere Noi prima si parlava No? Il mattello Scarpello Qui c'è il laser Le cose Ma sempre Non avevamo idea Del fatto che invece Secondo questi studi Erano in grado Di fare Centinaia di castelli In un solo giorno Qui parliamo Di una tecnologia Fuori dalla nostra portata Per poter costruire Tutto fatto velocemente Come parliamo Di una guerra Che è stata combattuta Fino a pochi anni fa E che è sempre stata Addirittura Avuto strascichi in Corea Dove ci sono stati Centinaia di milioni De morti E non quello Che dicono loro Dove poi Loro hanno la facoltà Come in una città Molto potente Che era Pompei Che era in grado Di desalinizzare Praticamente L'acqua del mare Era proprio Un centro Di desalinizzazione In grande Rispetto a quelli Che so Gli anfiteatri Che erano proprio Come il Colosseo Che servivano A desalinizzare L'acqua Perché sotto Le fondazioni Dell'Italia Qui si parla Per ricordare Quando si parlava Dei fiumi Tutti i canali artificiali Beh addirittura Le isole La stessa Bretagna Che è il loro covo È stata fatta artificialmente Si parla di questo Tutte le quantità Di terra Che noi vediamo Emerse Sono state prese Da quelle Che chiamiamo I fondali marini Quindi praticamente Immaginate Che a un certo punto Fino a pochi decenni D'anni fa In cui c'erano Tutti questi Al lavoro Al soldo Dei potenti Che avevano Il tratto di un uomo Con i parassiti Praticamente E hanno Hanno Destabilizzato Dall'interno Tutto questo Questa guerra Che c'era Ma ancora Tra la prima E la seconda guerra Andale Perché la prima Guerra mondiale È stata devastante Tra la prima E la seconda Guerra mondiale Ancora esisteva Una città stellaria Ancora esisteva Una resistenza Questa resistenza Perché si parla sempre Chi ha tradito Chi ha tradito Questa resistenza È stata smantellata Dall'interno Napoli Che è stata una Delle città ultime A cadere Era il porto Più importante De tutto il Mediterraneo Ogni fortezza Stellaria Ogni città Aveva proprio Ventimila soldati Adibiti Alla sua difesa E sono stati Scardinati dall'interno Molte volte Aveva suonato strano Tutta quella storia Che si parlava Dei Borboni Che quando è arrivato Caribaldi Con i mille O i cinquemila Tutte queste Città Tutte queste Cioè praticamente Senza combattere Ha subito declinato Ci sono stati Proprio tradimenti Da parte Del genere umano Nei confronti Dei propri fratelli E sorelle E parliamo Addirittura Che si creava Poi Gli stessi personaggi Che noi osaniamo Osaniamo Tipo Caribaldi Fu proprio uno Degli artefici Come vediamo adesso In tante cose Che fu un capo Istruttore Dei cosacchi Addirittura Che riguardava La formazione Di bande Di mercenari Che agivano In tutto il mondo Per Desa Desa Come si dice Desa Aiutami Adrian Destabilizzare Destabilizzare Tutto quanto Quello che era La nostra natura Perché qui Parliamoci chiari È stato un cambiamento E ci vuole Noi prima Parlevamo Due tre generazioni No ci vuole Una sola generazione Una sola generazione Per destabilizzare Tutto Basta una E poi Non dimentichiamo Le droghe Non dimentichiamo Il fatto Che avendo avuto Accesso A quello che erano Le nostre armi Tecnologiche Di difesa Sono state Scardinate Dall'interno E qui lo rivediamo In tutte le cose Che ci hanno propinato Perché ripeto Non sono geni Non hanno inventato niente Hanno carpito E preso Tutto quello Che era il buono E noi L'hanno trasformato In male Quindi quando Avano parlato Del scudo spaziale Perché c'erano Proprio dei scudi Elettromagnetici Che proteggevano Ste città stellari Come il muro In se stesso Non è il muro Che si intende Da gigante Ma proprio Un muro Con una fascia Elettromagnetica Che riusciva E l'avete visto Quando c'è stato Quel film Che hanno fatto Vede la cupola In cui La vacca È stata La mucca È stata tagliata A metà Quindi immaginate Prendendo tutte Ste cose Quanto sia stato Semplice 276 città Americani Con le armi Queste armi Questi poteri Che prima Erano usati Effettivamente Per fare La propria esperienza In un numero Molto lungo Di anni Si faceva qui È stato usato Poi a discapito Per poter Fare del male E i parassiti Non si sono mai Messi in prima Persona Ma hanno agito All'interno Proprio nostro Quindi l'inganno È generazionale Sì ma Un inganno Da parassiti Proprio E ripeto Tutte queste cose Quindi non dico Come hanno fatto A falsificare la storia L'hanno falsificata Perché è stato Semplicissimo Hanno cambiato Tutte quelle Quel lignaggio Che abbiamo noi dentro Significa lignaggio Infatti torturavano Le persone Perché lignaggio E il ricordo Che noi abbiamo Dentro a Tavico Di queste cose Hanno cambiato Le cose Sono successe così Ma hanno cambiato Diciamo Il bianco È diventato nero Che per noi Invece Sembra il bianco Quindi praticamente È come Adorare Un falso dio E per quanto riguarda Ritorno al discorso Delle cattedrali Degli edifici eterici Dei fari Degli archi De tutto quanto Sono stati costruiti In pochissimo tempo Si parla di giorni Ed in serie Perché la tecnologia Che avevano Gli ha permesso questo Subito dopo Quando un certo tipo Di tecnologie È venuta meno Allora si sono aiutati Con i famosi mattoni rossi Ma in ogni caso Loro avevano bisogno Di un'enorme Quantità d'acqua Sotto l'Italia L'acqua non c'è E noi avevamo Una Pompei Era Una Dava acqua A tutti questi edifici Eterici E Napoli Cadde Perché era il porto Più potente Che c'era Quindi immaginate Solamente Il fatto Di come loro Basta che tu Privi Dell'acqua Un edificio Eterico Che praticamente Si disattiva Quindi hanno giocato Molto Su sto fatto qua Però in ogni caso Le storie La storia nostra Finisce quando Nell'operazione Del 1940 41 Hanno abbattuto La torre Wireless Che si trovava Nel mare del nord Che si trovava Sopra la Norvegia Sopra La Scandinavia Diciamo Finlandia Svezia E praticamente Lì è stata Proprio La fine Perché non c'è stato Più il collegamento Noi rivediamo Questo della torre L'abbiamo rivisto Nell'implacabile Nel film Come lo rivediamo Sempre sta torre Nel film Che loro fanno Degli zombie Il film degli zombie È molto importante Perché loro Riuscirono In questi anni A fare Questi chiamati scimmie Per esempio Questo è un qualcosa Che sento molto Del fatto Dei personaggi Che individui Che si davano Al cannibalismo Proprio E c'è stato Proprio Dove loro Creavano il deserto Creavano anche Questi gruppi Guerrieri Chiamiamoli così Di cannibali Che proprio Spolpavano Molte delle ossa Ritrovate sotto Che sono state Impilate Da centinaia Di serbi Della gleba In questo caso Erano spolpate Quindi Quello che noi Stiamo vivendo adesso Non è paragonabile Con quello Che è stato vissuto E ancora Nel 1945 Al 1955 Hanno continuato A falsificare Quindi Praticamente Falsificare Quando hai Un'equip De migliaia Di scrittori Proprio Alle dipendenze Non è difficile Se ha già tutto scritto Basta cambiare I personaggi Quindi Non c'è nulla Di strano In tutto questo Chiarissimo Chiarissimo Quando In un certo senso Io Mi affaccio A determinate ricerche A volte Per esempio Mi capita di Appunto Fare delle esperienze Mi sorgono Delle domande Per esempio Qua da me Io ogni tanto Vado Negli uffici Del comune Dove ci sono Dei documenti Antichi E grazie anche A un ricercatore Un amico Che si chiama Agostino Che poi voi avete trovato Anche qui nel canale Spesso Insomma Mi metto lì E attraverso La chiacchierata Insieme a lui E poi spulcia qua Spulcia là Uno ricostruisce Un certo tipo Di ambiente Fino a poter arrivare Anche abbastanza Indietro E quindi La mia domanda È stata sempre quella Ma Io ho sentito Molto parlare Di reset Ho sentito Molto parlare Di popolazione Ridotta ai minimi Termini E quant'altro Però In alcune zone Effettivamente Alcune Certe cose Sembrano filare Nel senso Sembrano avere Un senso Anche cronologico In un certo senso E quindi La domanda La domanda È questa È possibile Che questi Reset Non abbiano Del tutto Distrutto Diciamo La linea temporale Che ci conduceva Fino a Magari mille anni fa E che alcuni posti Della nostra terra Abbiano conservato Determinate conoscenze Oppure È ancora una volta Anche questo Tutto Una finzione Tutto finta È tutto Da riscrivere Anche qui Franci Allora Secondo me Adri Allora Parlare di Una finzione Totale Io non sono D'accordo Anche perché Ci sono molti Punti Dove Ancora io Oggi Ho Tantissimi Punti Interrogativi Ok Si è raso Al suolo Tutto E magari La maggior parte Della popolazione Ma poi Come si è Come è avvenuta Diciamo Come è avvenuto Un ripopolamento Se la maggior parte Delle persone Sono state Tolte di mezzo Ci sono ancora Dei punti Che per me Sono molto Molto vaghi E quello che ho visto Io Ok Magari Facendo affidamento Su una storia Alternativa Che in parte Potrebbe essere Ad appannaggio Di una certa Fazione Per cui È utile Riproporre Un certo tipo Di storia Però Ripeto Questo tipo Di storia Ha in sé Delle radici Ed ho visto Che effettivamente Ritornando indietro Nel tempo Un certo quadro Un certo quadro Si può Riconnettere Può far Riemergere Insomma Anche Se uno deve andare A ritrovare Ad esempio L'origine Delle famiglie Che oggi Governano Il sistema Delle famiglie Filo occidentali Prendiamo ad esempio Gli aschenasiti Quelli Diciamo Quel ceppo Tra virgolette Ebraico Biondo Con gli occhi Azzurri Che Governa Che si contrappone Ai sefarditi Che sono Quelli sostanzialmente Più dediti Alla religione Eccetera Che vede Che vede appunto Questo ceppo Essere Di stampo Di origine Tedesca Mettiamola così Perché tutto si poggia Sulla teoria normanna Ma se tu vai a vedere Piano piano La teoria normanna Vedi che sono stati Distorti Dei concetti Originali Che ci sono Alla base E vedi che In realtà Queste famiglie Aschenasite Non sono Di origine Tedesca Ma sono Di un'altra Origine E si possono Far risalire Le loro origini A quelli che Stefano ha menzionato Prima I famosi Cosacchi Casac Che erano I famosi Casari Gli ebrei Dell'est I combattenti Di Dio Perché infatti Quella zona lì Era chiamata Israele Mentre invece La zona della Turchia Era chiamata Era la Giudea Appunto Quindi erano Due parti Diciamo Della stessa Macro area Che A quel tempo Deteneva Un po' Il controllo Dell'ordine Sociale E politico Del mondo Conosciuto Che poi Successivamente È stato Spostato Però Delle Diciamo Dei collegamenti Si possono Ritrovare Io non penso Che sia tutto Fasullo Perché appunto Si riescono A spiegare Tantissime Cose E anche Se devo Ad esempio Pensare Ad un certo Tipo Di società Dell'uomo In passato Tecnologicamente Avanzata Per quello Che è il mio Sistema Di pensiero Pensarla In termini Di tecnologie Ultra Mega Avanzatissime Io faccio Fatica Perché Perché Sono Più propenso A pensare Ad un uomo Più connesso Alla natura Che vive In un certo Tipo Di contesto Come noi Vediamo L'abbiamo portato Anche con Adra Ad esempio Per quanto riguarda La storia Del cemento Abbiamo visto Anche tramite Vida Ad esempio Come le api Come insetti Con la loro saliva Prendendo Tutto ciò Il materiale Diciamo Che sta intorno Riescono a costruire Dei nidi Molto solidi E Importanti Insomma E allo stesso tempo L'uomo Con la conoscenza Diciamo Delle Questa sera Non riesco a parlare Scusate Con la conoscenza Dei materiali Che gli stanno Intorno Amalgamando Insieme I componenti Riusciva a creare Delle strutture Molto Importanti Noi vediamo Che sostanzialmente Come ci diceva Stefano prima Chi ora governa Non ha inventato Nulla Dal niente Anche L'energia elettrica Sostanzialmente Comunque si basa Su un'ingegnerizzazione Dell'etere Se vogliamo Ma energia Che si può ritrovare Semplicemente Nell'ambiente Ad esempio Basta pensare Appunto Alla connessione Che può Esserci Con Diciamo Gli alberi E tutta la vegetazione Che ci circonda Noi abbiamo Detto tante volte Che gli alberi Emettono Delle loro Frequenze Delle loro Onde Di energia Che si vanno A contrapporre A quelle onde Di energia Molto Come posso dire Più Elettriche Mettiamola così Che possono creare Un danno Secondo me Un tempo L'uomo Non aveva bisogno Di Come dire Utilizzare Strumenti Mezzo Dispositivi Tecnologici Perché In tal senso Come Molti ci hanno spiegato Le facoltà Intrinseche Del corpo umano Comunque Della coscienza Eccetera L'uomo Era in grado Di poter Sfruttare Come posso dire Queste capacità No Quindi Utilizzare Un certo tipo Di Energia Dal corpo Per poter Appunto Operare Con l'ambiente Circostante Quindi Secondo me Come posso dire Franci Posso Posso Dire Una piccola cosa Una piccola parentesi Cercando A condividere Poi quello che hai detto Perché io Condivido moltissimo Quello che dici Io e te ci siamo Sempre detti L'essere umano Tende a ricordare Nel passato Un suo antenato Sostanzialmente Molto più Tecnologicamente Avanzato Con Astronavi Con Tecnologie Assurde Che costruiva Edifici di un certo tipo E quant'altro Che ci sta È chiaro Potrebbe tranquillamente Essere così Ma nel concetto Di evoluzione Umana Che intendiamo Per esempio Francesco La tecnologia Non è Estroiettata Al di fuori Non è intorno a noi È la tecnologia Dentro di noi La tecnologia umana Cioè La possibilità Di sfruttare Probabilmente Il proprio fisico Non avvelenato Al cento per cento Così proprio Come il proprio Cervello Sostanzialmente Che tornerebbe A funzionare A pieni regimi Quindi quando hai Un uomo Che ragiona Col cervello Al cento per cento Hai un corpo Che le cellule Ogni Mese Si rigenerano Completamente Nel corpo Dando vita A un essere Sempre più potente Comunque sia Sempre più Longevo E quant'altro Allora ti rendi conto Che quella tecnologia Potrebbe poi Tramutarsi Potrebbe tradursi In Non lo so Telepatia Piuttosto che Remote viewing Anche la stessa Bilocazione Anche la stessa Bilocazione La bilocazione L'entanglement Qualtistico Che ti permette Di Abbattere La barriera Dello spazio E del tempo Quindi sostanzialmente Di vivere in maniera Non locale E di vedere tutto In tutto quanto In un momento Sostanzialmente Quindi un po' come Il film Everything Everywhere All at once Un film che va Assolutamente visto Che hai detto Everything Everywhere All at once Praticamente è stato Descontrato È stato chiamato un po' Tipo il nuovo Matrix Perché è un film Asiatico Pazzesco Dove Fanno vedere Come funziona La Multilocazione Attraverso La spiegazione Del multiverso Insomma Come viaggiare Nel multiverso E c'è un essere Che vede tutto Nello stesso momento Quindi sa tutto E capisce Come stanno le cose E questo qui È l'essere umano Per eccellenza Sostanzialmente Posso intervenire Un minuto Scusate Se non me lo prego Certo È stato Riccardo Coroggio Che mi ha fatto Aprire gli occhi Su tutto Prego Prego Mi ha mandato Una marea di materiali Lui queste cose Ce le aveva dentro di sé Parliamo De schiuma Di roccia E parliamo Che mi sono spiegato Anche per ipotesi Come funziona Il reset Avendo Voglio far vedere Anche un video Che poi Parla Parla Così pure Facciamo Volevo dire Che il tuo mi ha mandato Tanto materiale Se vedono Proprio loro Tante montagne L'hanno camuffate Sotto c'era L'edificio Eterico Con questa schiuma Di roccia Che ce ne sono Di vari tipi E con la stessa Che hanno fatto Noi chiedevamo Come è stato possibile Il mood flood E tutto quanto Io continuo a ripetere Perché Perché Quello che parla Francesco Sul fatto Che dice Quando c'erano Quegli edifici E erano Un certo tipo Di gente E si è unito Adrian Dicento La telepatia La cosa Certo Ma siamo sicuri Che siano La stessa civiltà Di cui stiamo parlando Perché Non è stato Chi ha costruito I primi Degli edifici Eterici Un certo tipo Degli edifici Eterici Non è la stessa gente Che ha fatto Quelli di mezzo Per esempio In ogni caso Sfruttare poi Quella tecnologia In male Sta a significare Che noi abbiamo parlato Sempre dell'acqua Che Che in tre In tre elementi No? Liquida Cassosa E E Quando è ghiaccio Solida Solida E in ogni caso C'è anche L'edere Che è un'altra forma Dell'acqua E in ogni caso Abbiamo Tutto è acqua Uscita fuori La schiuma di roccia E loro Centinaia di montagne Dove c'erano Questi edifici Eterici Che facevano In pochissimo tempo L'hanno proprio Sommersi De schiuma Come hanno sommerso De schiuma Di un certo tipo Perché ne hanno Vari tipi Dessa schiuma di roccia Le città In cui L'hanno Praticamente Seppellite Da quei metri E quindi Questa è un'ipotesi Che alla fine A me mi fa Diciamo così Mettere i tasselli Al punto giusto In ogni caso Sono anche Tutte le foto Che mi hai mandato Riccardo Che si vedono Proprio edifici Che stanno Proprio con questa roccia Li ho messi tutti insieme In un video Adesso lo facciamo vedere Se volete Così si capisce meglio Sì sì Se ce l'hai Vediamo Sì Adesso No per farvi capire Perché secondo me Tutta la storia è inventata Perché se parti da presupposti Se tu ti immagini il mondo La storia come me Ma le immagino io Per forza Tutto il resto Sono tutte invenzioni Tant'è che poi vai a vedere La storia di Di Atene Tutta l'Odissea E poi vai a vedere È da un'altra parte del mondo È da un'altra zona Altri popoli Capisci Quindi per forza Non mi do neanche testo Adesso mi faccio Se mi fai condividere Lo schermo Facciamo vedere Un po' di immagini Che è mia Assolutamente Anche lui La sta parlando Stefano Che veramente qui Stiamo parlando di montagne Di isole Di cose fatte Con una schiuma Una schiuma Che si espande E si solidifica E quindi sotto Io quando penso Alle basi Sottomarine Alle basi militari Sotto le montagne Io alla Stefano Già da un bel po' di tempo Che gli dico Questi Costruiscono E poi Non lo so Che cazzo fanno Costruiscono Fanno la montagna Sopra e attorno E poi vai a Gran Canale Ragazzi Si vede benissimo Perché la maggior parte Dei monti Si vede Si vede chiarissimo Che sono È fatto a strati Di questa schiuma Che poi si solidifica Adesso vi faccio vedere Un po' di immagini Ma quando Quando io sono venuto su In Sardegna Ti ricordi Che te l'ho detto subito Che vedevo Questa roba in giro Sì ma A Gran Canaria A Gran Canaria È veramente incredibile È spudorata la cosa Poi ci sono anche Le montagne Le montagne Che vengono dagli albri Ci sono anche gli albri tagliati Ma ci sono tantissime Veramente Montagne Che sono Che sono finte Adesso vi faccio vedere Un po' di cose Della Germania E poi mi dite Che storia è questa Cosa c'era lì Nel centro della Germania Dove ci sono delle colline Sotto queste colline Ci sono Gli alberi Ma sotto gli alberi Le radici Di queste colline Sono tutte quante Aspetta Allora Questo Stavo facendo Un cantiere Uno schiavo È sotto gli alberi Guardate cosa c'è Si vede? Mi sentite? Sì sì Si vede Si vede Perfetto Un po' scatti Però si vede Ecco questo 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 Guardate Qui un muro Qua sotto Vedete Questa è una collina Qui vai a fare i funghi Guardate cosa c'è sotto Qui sono muri Tutto In mattoncini Guardate E sopra Ci hanno piantato Gli alberi Queste sono le radici Degli alberi Guardate Sotto gli alberi Guardate E questi sono a Berlino Hai detto Giusto? No Questo non è Berlino Nel centro della Germania Ah ok Ma queste Sono tutte colline Ma sotto le colline Queste Queste non sono colline Hanno coperto Quello che c'era prima E ci hanno piantato Gli alberi sopra Per nascondere Questa è Gran Canaria Guardate Vedete Questa è un muretto Ok Qui c'era una struttura Un edificio Lì sotto E poi Ci sono Tutti questi strati Di schiuma Sì sì Aspetta qua Vado un po' più avanti Però lo vedi Queste che sembrano rocce Questa è roba solidificata Vedi Questo Questo Sono mattoni Però lo vedi Come sono astratti Questa è una spuma Sì sì Assolutamente Sì sì Ma con le ultime puntate Che abbiamo fatto Anche con Franci E anche sulla Bosnia Quando abbiamo parlato Insomma Dei geopolimeri Ne abbiamo Diciamo Fatte vedere parecchie E risultano tutte Molto simili Anche a queste Che ci stai a fare Tu Quindi È molto probabile Che sotto i nostri occhi Ci siano montagne Fatte di schiuma Come l'hai chiamata anche voi Di roccia Come altre tante Costruzioni Che sono state create Proprio attraverso Dei geopolimeri E non con Chissà quale taglio laser O chissà quale situazione Particolare Insomma Sono delle schiume Sì sì Asatto Roccia organica Sì Guarda Questa qua per esempio Questo qui C'è un edificio Se vedono gli archi E qui sopra C'è una montagna Anche Guarda Guarda un po' Questa dicono Che è formazione Bufanica È impossibile Li vedi se vedono gli archi Poi mi avvicino Sì sì Chiaro Ecco lo vedi Poi è proprio sotterrato Adesso stanno costruendo il porto Stanno sbancando tutto Poi vediamo anche quelle famose Che fanno vedere Proprio Dei città Dei edifici Proprio Semisepolti Dalla roccia E se parlava sempre Del mood flood Ma in ogni caso Guardiamo le cose in grande La schiuma di roccia Comincia a diventare Un'ipotesi plausibile E poi diversi tipi Di schiuma di roccia Lo vedi Lì sotto c'è proprio Sbagliate Sotto Lì sotto C'è sicuramente Un edificio L'ingresso di qualcosa I buchi Che si vedono lì Le bolle d'aria Sono proprio tipiche Dei Dei Composti Geopolimerici Insomma Dei schiume Che si espandono Sì E risulta anche a voi Adrian Quando avete parlato La miscela De quella artificiale Che è la polvere Ritorna a marmo E c'è anche la schiuma Lo vediamo anche In edilizia No? Sì sì Assolutamente Sì sì Ecco lo vedi Qui c'è un edificio Qua sotto Poi c'è uno Scruzzato sopra Questa roba qua E qui dentro Più avanti C'è coffette Una zona Dove sono montagne Così E loro dicono Che lì c'era La base dei nazisti Arrivavano Ci sono i sommergibili C'è tuttora La base militare Lì è tutta la zona Interdetta Ma lì Qui non sono Montagne scavate Per fare basi Sottomarine Ma con quali Ripetiamo Ritorniamo Con quali Con quali Tecnologie Con quali Attrezzature Con quali Macchinari Hanno scavato Costruito Basi Dove entravano I sommergibili In quegli anni Non mi torna A nulla Di quello che Rago Questa è sicuramente Una cosa che loro Hanno utilizzato Per coprire tutto Questo è un esempio Di Vedete Macerie Accumulate Ok Questo è come nel piccolo Così in grande Voi immaginate Queste le classiche Formazioni Che si vedono Colline Che sembrano Hanno quelle forme Un po' Squadrate Un po' Questo Un altro esempio Ecco Forte e Ventura Un po' Tutto così Però più In grande Quindi come se fosse Un Resi di uno schiavo Una catena Montuosa Vedete Vabbè Questo era un esempio Per far vedere Un po' Sì sì Che poi Questo me l'avevi mandato Anche a me Mi ricordo Quando Me ne parlavi Mi avevi fatto Vedere queste cose E sì Effettivamente Sforzo Vai a Forte e Ventura Sono le colline Di Forte e Ventura Uguale Con la sabbia Costa un sacco De soldi Sono quelle che Secondo me Sono piramidi Che Puoi togliere Anche la condivisione Adesso Definito Ecco Perfetto Sì sì È una situazione Particolare Comunque Noi ne abbiamo Parlato Di queste Ipotetiche Schiume di roccia Che poi Tra l'altro Qualche ricercatore Russo In questo caso Silviva Noval È proprio chiamata Le fattorie di roccia Dove le Le rocce venivano Coltivate E crescevano In qualche modo Fino a poi Indurirsi E questo Spiegherebbe Anche il Diciamo Presentarsi Di alcuni Opp art Quegli oggetti Fuori dal tempo Che non trovano Nessuna spiegazione Perché Magari Cade Per esempio Un pezzo Di una zappa Perché L'elemento È quello Una zappa Dentro a un pezzo Di roccia Che accade Dentro questa schiuma Che poi si indurisce Sostanzialmente Poi Quelli che vanno A fare Gli archeologi Le ricerche Di un certo tipo Impazziscono Perché non si riescono A capacitare Di come una roccia Possa aver Inclobato Sostanzialmente Una Un manufatto Un manufatto Dall'essere umano Quindi di conseguenza Lo mettono Negli oggetti Fuori dal tempo Che chissà Quale teoria Poi tira fuori Quando in realtà Probabilmente Abbiamo solo Dimenticato una cosa Ma nemmeno È tanto Che l'abbiamo dimenticata Che abbiamo Iniziato a utilizzarla In maniera diversa Cioè La schiuma di roccia La fattoria Di coltivazioni Di roccia Sostanzialmente O tutto quello Che può essere Chiamato geopolimero Si è trasformato Sostanzialmente In cemento chimico Quello che oggi Noi conosciamo Che è scadente Che scade Che non ha più È Come il discorso Dell'energia Una volta Si utilizzava Un'energia Ma anche oggi Si utilizza La stessa energia Il problema È che è stata Imbrigliata È stata venduta Ed è stata Sostanzialmente Monopolizzata Perché se noi Avessimo Ancora La capacità E questo perché L'abbiamo dimenticato Probabilmente Di come ricavare L'energia Dall'etere Allora Non avremo bisogno Di farcela vendere Da qualcuno Che la imbriglia Così come combustibili Fossili Così come tante altre cose Voglio dire Cioè Ha subito Ha subito Una trasformazione Da un principio A un altro Facendosi passare Da uomini liberi A uomini schiavi Facendoci dimenticare Un passaggio nel mezzo Questa è un po' La mia missione Rick Ma come Volevo dire Volevo dire una cosa Questo Come l'alimentazione Voglio dire La frutta E la verdura Qualsiasi alimento Dal suo stato naturale Magari Ho sentito comunque Adesso non mi ricordo Dove Però effettivamente La frutta di oggi Non è quella Che c'era Un tempo Perché è stata presa La frutta originale E poi è stata impoverita Di tutti I nutrimenti Quindi oggi Se prendi la frutta Nei supermercati Eccetera Non sarà mai Come una frutta Che magari Ti coltivi per te Ma non sarà mai Come era In passato Quando la struttura Era meno inquinata Meno depauperata Di sostanze E quindi È questo Quello che è stato fatto È stato preso Ciò che c'era Ed oggi Ed oggi Ce n'è stata data Una versione Molto più Scadente Una questione Una cosa E basta Che volevo dire Per quanto riguarda I composti Giopolimerici Eccetera Anche il fatto Si sente molto spesso Nelle teorie alternative Del fatto Che questi Blocchi Tra virgolette Siano messi Così Vicini L'uno Con l'altro Ed è Molto difficile Passare Attraverso D'ognuno Di questi blocchi Con Tra questi blocchi Praticamente Con Un foglio di carta Perché il passaggio È talmente stretto Che nemmeno Un foglio di carta Ci entra Però Ad esempio Questa condizione Potrebbe essere data Appunto Da uno stampo Applicato Sul composto Giopolimerico Che Produce I perimetri Diciamo Della mattonella In sé Per cui è chiaro Che Lo spazio Sarà talmente Stretto Che tu non riuscirai Di infilarci nulla Perché essenzialmente Lo spazio Non c'è E ho visto questa tecnica Anche recentemente Su dei video Ma prendiamo ad esempio Anche Geroglifici Dove La storia convenzionale Ci dice che Potevano essere Scolpiti Sulla roccia Uno dopo l'altro Mentre invece Se anche per le piramidi Utilizzavano Dei composti Giopolimerici Che inizialmente Erano morbidi Potevano utilizzare Semplicemente Degli stampi Già fabbricati Con I geroglifici Ce li Apponevano Sopra Poi la pietra Si induriva E rimaneva Con il geroglifico Bello Inciso Nel composto Giopolimerico E questo Sarebbe un processo Molto facile Che non richiederebbe Chissà quale Lavoro In mani Dietro Ecco Volevo dire Guardate quanto è facile Falsificare Mentre distruggevano Le seguoie Le ultime Seguoie giganti In America Parliamo del 1880 70 Distruggevano Contemporaneamente Anche tutti gli alberi Giganti Molto più giganti Delle seguoie Che stavano Nelle isole Canarie Ma parliamo Invece Che loro L'hanno collocato Mandato Da re Giubba Che era il nipote Di Massimissa E mandato Da Ottaviano Loro hanno messo A bruciare Questi alberi Mandati nelle isole Canarie E hanno bruciato E l'incendio È durato sette anni Pensate quant'erano Grandi Però loro Hanno Si falsifica subito Te lo metti E lo sposti In varie collocazioni In ogni caso Invece è successo Tutte le cose Che vediamo Che hanno spostato In vari spazi temporali Sono successe Nello stesso momento Quindi Prima del novecento Hanno distrutto Tutti gli alberi giganti Che c'era Un polmone Incredibile Lì nelle Canarie E poi È stato fatto La Modificazione Invece L'hanno messo Le sequoie Perché stavano In un punto Che non potevano Bruciarle In ogni caso L'hanno usate Poi per la costruzione Dei poveri abitanti Che ci hanno messo E eccetera E eccetera Per dare Proprio iniziare L'impronta Di quello Che sarebbe diventato La civiltà parassita A consumo Invece Proprio lì Alle Canarie Fecero un incendio Durato sette anni Che fu devastante Sempre per Per quanto riguarda Quello Della loro cosa Che è Assimilare E desertificare Dopo aver privato Di ogni sostanza La terra In ogni caso Con tutte tecnologie Che dal bene Che potevano fare L'hanno trasformata In male Ascolti Volevo un attimino Rispondere a Marco Garau Che poi sono un po' Le cose che dicono Gli altri scopi Trove Quelle immagini Noi stiamo parlando Di queste spume Di Pulimeri E c'è invece Chi sostiene Che È roccia fusa L'ho pensato anch'io Allora Vi posso dire Ci sono alcune situazioni In cui penso che Abbiano utilizzato Una tecnologia Che abbia squagliato Anche la roccia Ma in questi casi Di montagne O di basi Dentro le montagne O le immagini Che stavo facendo Vedere io prima Forse Sono immagini fatte a male Però vi posso garantire Che proprio O che così Sembra Sembra veramente Che siano Delle Delle spume Solidificate E aggiungo La spuma Che ingloba L'edificio Che già c'è Per quello Poi tu entri Dentro l'edificio Ed è perfetto Dentro Non è che hanno fatto L'edificio perfetto Dentro la montagna Non Secondo me No Assolutamente Però hanno usato Tipo La spalma Di Gran Canaria C'è una zona Dove secondo me C'era un porto vecchio Dove si vede Che hanno usato Una Un'energia Che ha squagliato Tutto quanto Tant'è che A furia Delle onde Del mare Hanno tolto Il primo strato Di quella roccia Che sembra Veramente fusa E sotto E dietro Ci sono i mattoni Ok Quindi è proprio Solo il primo strato Che è squagliato Ma ecco Hai detto bene Scusa Perché Riccardo In tutti gli altri studi Che sto facendo Quello delle roccia fusa È messo come uno Dei primi depistaggi È solo un qualcosa De superficiale Che viene fuso Quello che loro Molti ricercatori Dicono Roccia fusa Roccia fusa È un depistaggio Per ipotesi Quindi Voglio dire Bisogna Bisogna analizzare le cose E se qualcosa Poi non quadra Non quadra Non è che tornare indietro E dire Forse non è così Io forse è così Però sappiamo Che superficialmente Come hai detto tu C'è un sistema Con un'arma Energia diretta Che puoi Solidificare Ma è Per fondere Ma per quanto riguarda Tutte queste analisi Che hanno fatto In questi documenti Si parla Di tutte le cose Del depistaggio Che ci hanno messo In questi ultimi anni E che per cui Molti ricercatori Hanno proprio dato la vita E che invece È proprio un depistaggio Perché Ok Non si parla De rocce fuse Si parla sempre Dei polimeri Si chiamano Schiuma di roccia Per abbreviarla Poi roccia De vario tipo Perché C'hai varie 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 possibilità In base Ma facevano anche Saldature con la roccia Cioè Anziché usare lo stagno Come usiamo noi Quelli facevano Perché era tutto in roccia Se tu vai L'età della pietra Perché prima si costruiva Tutto a conto Con la pietra Tu vai a vedere Il colosseo Perché poi Ognuno aveva Una sola funzione Le cattedrale Avevano Avevano Delle funzioni Gli obelischi Avevano Funzioni Di antenne Basta Il colosseo Magari aveva La funzione Di generare Energia Fusione fredda Che ne so Tipo Hanno la Formazione Di un Tocama Quindi Loro Utilizzavano Faccevano Anche Le saldature In pietra Se tu vai a vedere Io l'altra volta Ho pubblicato Un video Di coffette Dove Secondo me La cima Di queste Montagne Che loro Ticono Formazioni Vulcaniche Sono assolutamente Artificiali Si vedono Anche i filari Di mattoni E anche lì Poi Alla fine È stato usato Qualche cosa Che ha Come un po' Squagliato Lo salto Superficiale Quindi rimane Un po' Così Però poi Si vedono Delle giunture Delle saldature Perfette Che sono fatte In roccia Ragazzi E come Diceva anche David Wells In più diretta E con te Ha fatto vedere Certi Immagini Da google map Dove si vede Tutto il reticolato Forti avventura È tutta così E da lì Si vede Perfettamente E io ci sono passato Sopra Per le cose Fossero E sono Sono fatte Di pietra Pietra Durissima E liscia E sembra anche Un po' Di Non lo so Quarzo Un po' Sai Sicuramente A qualche Funzione Altrimenti Non avrebbe senso Che ci fossero Che ci sono Tutti questi Reticolati Così perfetti Con tutte le giunture Che sembrano Giunture fatte Saldature Però anziché In stagno In pietra È allucinante Immagino Immagino Sì 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 Ma assolutamente Io Mi batto sempre Per una di queste Per questo concetto Perché Una volta Noi avevamo Una conoscenza Sicuramente Per quanto riguarda Almeno la pietra Che era Importante Ma vedi La pietra Ha avuto Secondo me Dei ruoli Importanti Nel corso Della storia Dell'uomo Ma non solo A livello Costruttivo A livello Edilizio Ma anche Le pietre Hanno avuto Un ruolo Fondamentale In altri ambiti Per esempio Perché l'uomo Penso che una volta C'aveva anche La conoscenza Cioè pensate Al concetto Della cristalloterapia Per esempio Tutte le varie pietre Di un certo tipo Le cristalli Che attivano Determinare cose Nell'essere umano E pensate Per esempio Anche a loro Tutti quei metalli Nobili Sostanzialmente Che noi oggi Ne riceviamo Delle piccolissime parti E specialmente Di una qualità Molto bassa Sia l'oro Che le pietre Preziose Per esempio Ma pensate Invece ad avere Una grande Disponibilità D'oro Puro Una grande Disponibilità Di pietre Di un certo tipo Chissà cosa Ci si può Veramente creare No? Con questi Medalli Con questi minerali Sostanzialmente Che entrano In risonanza Con tutto Il nostro essere E sviluppano Determinare Conoscenze Determinare Capacità Cioè Capite che cosa Sentendolo In senso Una tecnologia Tornando anche A quello di prima Al concetto Di prima E' qualcosa Che ci è stato Tolto da dentro Di noi Ed è stato Portato al di fuori E ci ha reso Schiavi Capite? E' come una roba E' come un venom Che è uscito da noi E ci ha fatto diventare Loro Il loro burattino Sostanzialmente Cosa ne pensate Di questo? Franchi? Sono raccordo Adri Sono raccordo E infatti Io penso a questo Quello che ho visto È stato un progressivo Far allontanare L'uomo Dal suo contesto Naturale Che poteva vivere In un contesto Naturale Con delle Con degli edifici Con delle strutture Comunque formate Da questi composti Piopolimerici In pietra E noi sappiamo Come la pietra Comunque Contenga Delle Strutture Anche Piometriche Capaci Di imbrigliare L'energia Eterica Circostante Quindi Non abbiamo Bisogno Chissà Di quali Costruire Quali antenne Tecnologiche Perché Alberi Le pietre Appunto Anche le pietre Preziose Come cristalli Per la loro struttura Come noi sappiamo Anche i mattoni Rossi Con le particelle Che sono inclusi In questi mattoni Sono tutte sostanze Naturali Che Già sono strutturate Per raccogliere Questo tipo Di energia Quindi Quello che vediamo Nel momento In cui noi Osserviamo Delle città Almeno Questo è il mio Pensiero Che mi sono fatto Anche quando si parla Della famosa Tartara Con tutti questi Edifici Queste città Immense Io la vedo difficile Vedere Un uomo Che è vicino Alla sua condizione Naturale Di piena consapevolezza Quindi facente parte Di una civiltà Ben sviluppata Ma una bella civiltà Sviluppata Sul piano Anche Spirituale Tecnologico In senso naturale Quindi piena consapevolezza Di tutte Di tutti i materiali Che ci sono In giro Vivere Stipati In delle immense Città Secondo me In passato Non era Tanto differente Da quanto Vediamo Oggi Dove la città Viene sostanzialmente Usata Per Far sì Che la gente Stia tutta Ammucchiata In un unico posto E sia più facilmente Controllabile Manipolabile Anche grazie a determinate Energie Elettromagnetiche Che vengono Immesse Dove il corpo umano Le Come posso dire Le subisce Dal momento in cui Si alimenta male E non sta più In salute Quindi è tutto Un circolo Vizioso Se l'uomo Si riconnetta Alla natura Si riappropria Della natura La salute È la condizione Naturale Dell'uomo Quindi anche L'uomo È più Difficilmente Controllabile Perché Nonostante Sta in un gruppo Comunque Mantiene viva La sua Individualità Nel senso Chi tiene conto Del suo Benessere Del suo Stato di salute Psicofisico Nel migliore Dei modi Ecco Una cosa invece Che noi vediamo Oggi È che noi Siamo tutti Facilmente Controllabili Tramite Queste energie Stando stipati Appunto In tutte queste Città Quindi Secondo me È stato fatto Questo Ancora In quella Che viene definita Tartaria Con l'uomo Che viveva In queste Grandi città Eccetera È stato Semplicemente Una transizione Che ci ha portato Dalla condizione Naturale Dove l'uomo È stato Addomesticato E portato In queste Grandi Città Dove Determinate Energie Non è nemmeno Detto che Siano state Utilizzate Anche per Conferire Salute All'uomo Ma molto probabilmente Perché l'uomo Doveva andare Come posso dire Tutti quanti Nelle cattedrali Per farsi Rigenerare Quando si suppone Che allo stesso tempo Quelle città Erano governate Da degli Amministratori Che facevano parte Di queste famiglie Antiche Che avevano Tutto l'interesse Di governare Appunto Sull'uomo Quindi Anche quella Secondo me È stata una transizione Una fase Che ci ha portato Poi allo stato Attuale Dove oggi Vediamo Una completa Degenerazione Di tutto ciò Che c'era Che c'era prima Quindi come È stato detto Anche prima Appunto L'energia Che poteva essere Tra virgolette Libera Oggi è stata Imbrigliata Privatizzata Tutto Tutto è stato Privatizzato E tutti i materiali Naturali Tutto Anche Ciò che noi Mangiamo È stato Impoverito Da Da ciò Che era Prima Appunto E noi Vediamo Anche i gioielli Se un tempo Venivano utilizzati Per le loro Proprietà Anche di Imbrigliare Appunto L'energia Eterica E farla confluire Anche nel corpo Umano Oggi vengono Semplicemente Utilizzati Come Oggetti Di Puro Come Dire Solamente A fine Estetico Però In realtà Tutte queste cose Appunto Hanno Una loro Specifica Funzione Quindi Studiando la storia Io come visto De come L'uomo Appunto Piano piano È stato Portato via Dalla sua Condizione naturale Per essere Portato In una condizione Addomesticata Dove Ha Dimenticato E non Sa più Appunto Diciamo Costruirsi Le cose Ha Dimenticato Praticamente Tutto Perché sta In uno Stato Di comodo Nel momento In cui Ognuno Si riappropria Diciamo Della propria Vita Inizia a ritornare In questo Circo L'appunto Prendere Consapevolezza Di se Piano piano Potrà ritornare Quell'uomo Di cui Parlavamo Prima Consapevole Di tutto Che sapeva Utilizzare Anche delle funzioni Specifiche Del proprio Corpo E quindi Non ha più bisogno Di utilizzare Una tecnologia Esterna Ma utilizza La tecnologia Interna Che fa parte Anche del proprio Corpo Una tecnologia Molto più naturale Se vogliamo Ecco La piena Facoltà E capacità Di utilizzare La propria Coscienza Che si manifesta In questa realtà Per mezzo Del corpo Che è un tramite Il nostro Tempio Ecco Dove risiede Appunto La scintilla Divina Quindi è tutto Concatenato Scusate Ma questa sera Purtroppo Diciamo Le parole Non sono Né amiche Quindi non riesca A mettere In La scintilla Spero Di Capito Tu E' chiaro E' tranquillo Vorrei dire una cosa Non si direbbe Però Francia Non si direbbe Perfatti Perché Io Quello che ho Dedotto Mi ricollego A Francesco Quello che ho Dedotto Da Le mie Studi È che Prima Degli ultimi Secoli Che dico Quando C'era Proprio Gli edifici Eterici Che rigeneravano Non era Anche Nella loro Morfologia Nella loro Tipologia Costruttiva Proprio Posti Dove Si viveva Permanente Ma Infatti Quando poi È diventata Una civiltà Militare Che sono state Prese Le città E molte Sono state Abbandonate Dei diversi Esodi Dalla popolazione Accannando Per così Dire Gli amministratori E scappando Via Si è scappati Nella foresta Era più Prima Dalloro Un pellegrinaggio Che si faceva In città Ci si rigenerava In un certo modo Ma La nostra Moda Era quella Della foresta La foresta È stata demonizzata Apposta Ma noi Quando scappevamo Dalle città Ci rifuggevamo Nelle foreste In ogni caso Poi è stato Un dato Di fatto Cioè È stato Un fattore Proprio Di necessità Dover andare A vivere Nelle città Che avevano Delle protezioni Degli scudi Prosettivi Quindi Diciamo che Tutte e due Diciamo la stessa cosa Francesco Nel senso che Io la vedo pure In termini Proprio Come si può dire Che chi ha costruito Gli edifici eterici Per eccellenza E io Mi ricordo Mi riguardo Parlo proprio Di quando Le vediamo Sulle centolire Lo vediamo Quando inizia il film Titano Sminerva Questi esseri Che hanno Il naso dritto Che non c'hanno La fossetta Come noi Quindi sono Esteriormente Sembrano come noi Ma interiormente Per questo Erano Pure le autopsie Erano diversi Erano proprio Quelli che Io definisco Respirariani E sono quelli Che hanno costruito Gli edifici eterici In questa maniera Ma in ogni caso Le città Non è che ci è voluto Tanto a desertificarli A farle diventare Disabitate Perché era un via vai Nel senso Che la nostra moda Ci imponeva Di stare In un altro ambiente Che il nostro ambiente Sicuro In cui ce l'hanno Proprio bruciate E tagliate E continuano a tagliare Anche adesso Sono le foreste Quella era la nostra moda E rispondeva adesso A Marco Che no Ho detto la stessa cosa Che non si può Prendere tutto Per roccia fusa E un depistaggio Se tu Mi dici Tutta è roccia fusa Ma ci sono armi Energia diretta Che hanno agito Sugli edifici Su un certo tipo Di rocce Quando hanno voluto Eccetera Eccetera Che era Quello si fondeva Ma per un'arma Energia diretta Ma accumulare Tutte le altre montagne Che non erano Quegli alberi Che parliamo noi Tutte queste altre montagne Che abbiamo sempre detto Che erano scorie O compagnie bella Quella era proprio Schiuba di roccia In ogni caso Questo discorso Che ho dedotto Sul fatto della città In se stessa Io non l'ho mai vista In queste città Che sono rimaste Tale e quale In fondo Sì Quelle che sono riuscite A sopravvivere in Germania No perché hanno La Germania Il centro dell'Europa È stato veramente Bombardato pesantemente Distrutto A differenza Diciamo così Dei confini Tipo Italia Cose che è rimasto De più Ma sulla Germania Come ho fatto vedere Prima Riccardo C'è proprio Hanno steso Proprio un deserto Proprio dei tartari In questo caso È stato ricostruito Hanno seppellito tutto Ma io La Germania Ha subito Una catastrofe Più di tutti gli altri Più di tutti gli altri Perché era un cuore pulsante Era rimasto Noi sappiamo Il parco dei Kingard Quelle enorme Carillon da 44 tonnellate Quella pace Che ti veniva Quando suonava Il carillon gigante Eccetera eccetera Ma In ogni caso Se devi Andare a vedere La Germania È proprio uno De quei posti Che sotto È tutto Seppellito Assolutamente Ma anche Secondo me Anche secondo me Prima L'uomo era Al centro Viveva nella natura Le città Più che altro Le vedo proprio Come strutture A servizio dell'uomo Non per forza Dovevano essere abitate Quei centri Che noi Le chiese Le catele Erano luoghi Dove qualcuno Uno si recava ogni tanto Però avevano diverse funzioni Magari Non solo con l'energetica Magari anche con la di depurazione Dell'acqua Sì Poi ci hanno fatto E poi anche Quella Salutare per le persone Tu entravi lì Con tutte quelle Quelle frequenze Gli organi a canna E quant'altro Penso che poi Quando Si è successo Il patatrà Che si sono iniziate Le guerre La gente Abbiamo iniziato Ad andare Nelle città Che hanno cambiato Funzione Si diventano Tipo città fortificate Fortezze Ma perché poi Pian piano Avevano già Probabilmente Già perso quelle che erano Le loro funzioni principali Quelle strutture Però quindi io vedo Tutte quelle parole Tutti L'obelisco Come componenti Di un unico circuito Che era fatto In funzione Proprio del benessere Dell'uomo Che non per forza Doveva abitare Nelle città Ho sempre vissuto E immaginato Quell'epoca Come un Un periodo In cui appunto L'uomo interagiva Con la natura Con le energie E che avesse Forse Più potente Rispetto a noi Forse Noi siamo depotenziati Avesse capacità Anche mentali Maggiori Tipo Comunicare a distanza Avere Quell'intuito Quelle Loro dei loro Ma c'è anche Il coordinatore Nostro Non pensate Che stiamo Da soli In ogni caso Io qui sto Come ho detto All'inizio Sto parlando De realtà Non sto parlando De centratura Spirituale De tante cose Che vengono mischiate Apposta Qui stiamo Parlando Proprio Realmente In maniera Fisica Di quello Che ci hanno fatto E quindi Da quello Che ho dedotto Non è che Siamo proprio soli C'è ancora Qualcosa Ma non viene Chiamato re O capo È più un coordinatore Ecco Non Non funziona Così Non funziona Come le loro Mode Io infatti Ho sempre parlato De confederazione Ma che ognuna C'aveva la sua Indipendenza E venivano E si confederavano Ma no La federazione Invece È completamente Diversa Quindi Le loro mode Non sono le nostre Ma su tutti I punti di vista E sotto tutti Gli aspetti Ma la moda Più grande Che ci hanno loro È quella Del tradimento Come un serpente Che in sé Insinua Dappertutto E corrode E corrompe Gli animi E tutto Quello Che si ha Chiarissimo Bene ragazzi Siamo arrivati Ricosti a due ore Io penso Che possiamo Fare un giro Conclusivo Parto con Francesco Franci Parola a te Ma niente Adria A parte che Diciamo Sì Comunque La storia Non è un campo Semplice Perché effettivamente Tra poco Non sappiamo Quello che È accaduto Nei giorni nostri Figurati L'uscire Aria E sumare Con certezza Quello che è accaduto In passato Però Io sono convinto Che non è Tutto totalmente Falso Come ho detto Prima C'è una base C'è un messaggio Originario Che è stato Distorto Rimaneggiato Nel corso Dei secoli Sono convinto Che Chiunque Diciamo Governi Il sistema Da dietro Quelle famiglie Perché I classici Che ci vengono Messi davanti I Rothschild Questi qui Per intenderci Che arrivano Da quando C'è stato il cambio Dell'ordine precedente Costituito Quindi sono Dell'ordine Che è stato Instaurato Dalle nuove famiglie Filo occidentali Che hanno Messo da parte Tra virgolette L'altro Tipo di Dinastia Filo orientale Secondo me Quelli sono Sempre Coloro Che ti mettono Lì davanti Che sono Amministratori Di famiglie Che però Stanno ancora dietro Che non si fanno Vedere Convenzionalmente Ecco Magari fanno parte Degli stessi ordini Principeschi Ecco Questi che Questi ordini Come ad esempio Come posso dire Della croce di Malta Eccetera Che mantengono Un certo tipo Di assetto Simile A quello Che era Nel medioevo Di queste Di queste famiglie Insomma Quindi hanno Un assetto Ben preciso E che sono Guarda caso Sempre Accomunati Con quelle Che sono Le famiglie Poi Che hanno dato I natali Ai papi Alle figure Religiose Che sono state Sempre In stretto rapporto Con Con Diciamo Le Le famiglie Nobiliari Ecco Quindi Come dire Si può riuscire A ristabilire Secondo me Quella che è la storia Prima che venisse Appunto Scusate Sento un po' Di eco Ah ok Secondo me Secondo me si può Ristabilire Quella che è La storia Prima che venisse Diciamo Alterata Però secondo me Prima E questo è un discorso Che io sono solito Fare Per ristabilirla Dobbiamo veramente Prendere consapevolezza Di noi Perché Facendo questo Riusciremo Piano piano Anche A capire Come si sono svolti Gli eventi Esterni Perché tutto ciò Che è esterno È riflesso Di quello Che noi Abbiamo Internamente E quindi Ecco Io confido Che Nonostante Noi abbiamo Tutti Delle opinioni Differenti Su come si possano Essere svolti I fatti Confido Che piano piano Ognuno Facendo il proprio Lavoro Secondo me Riusciremo A capirci Un po' Di più E a capire Effettivamente Come possano Essere andate Le cose Insomma Quindi Che dire Niente Diciamo Che ormai Tanto Questa sera Purtroppo Non riesco A fare Un discorso Sensato Filato Quindi Meglio Che mi sto Zitto Parlate Parlate Voi Grazie 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 Mille Riccardo Se mi saluti Io devo Devo Dire Qualcos'altro Sì Un pensiero finale Ma il pensiero finale Quando io dico Che è tutto falso Non intendo Dire che Negare Che certi fatti Siano avvenuti O meno Infatti storici Documentati Falso Nel senso Che è come Vengono narrati Un esempio Su tutti Sono lettori Germale Ripeto A scuola Ti fanno studiare Che Gli hanno Votati giù Due aerei Due torri E un palazzo Un edificio Sono stati due aerei Guidati da quattro terroristi Che hanno trovato Anche la carta Identità E studi quello Sai che non è così Sai che è falso Però tu Adesso La nostra generazione Sa che non è così I bambini di adesso Vanno a scuola E leggono nel libro Quello Quei bambini di oggi Diventeranno grandi E ai loro figli Che leggeranno A loro volta Quella storia sbagliata Non avranno mai Non sentiranno mai I loro genitori Dirgli Guardate che Era bugia Perché i complotisti Dei tempi Hanno dimostrato Che Semplicemente La storia L'hanno cambiata Quindi in questo senso Lì Per cui anche Un avvenimento Che può essere Avvenuto Sicuramente Non è avvenuto Così come Ce lo raccontano Poi Le cose Nessuno Può Dirti Comandata Realmente una cosa Anche perché Poi ci sono I vari punti Di vista Io una cosa Che vedo in un modo La interpreto In un modo Altri invece In un altro modo Ancora Purtroppo Non possiamo andare A ritroso Come ho già detto Prima Più di tanto Nel tempo Io Mi fido Del mio istinto Il mio istinto Da molto Mi dice Che questi Non hanno Più di due Trecento anni Esagerando Che c'è stato Un periodo Neanche lontano C'è Siamo parlando Dei nostri Bisnonni Almeno Di quelli Della nostra Generazione Over 40 Che sono quelli Che Alla fine Sono stati i primi Che hanno ripopolato Dopo il grande coso I nostri genitori I nostri nonni Erano tutti analfabeti Per cui tu Ha dei bambini analfabeti Gli puoi raccontare Le storie Che vuoi Alla fine Non le possono Né scrivere Le possono tramandare Però abbiamo visto Che erano anche Molto confusi E spaventati A tramandare le cose In molti In molti casi Per cui Molti Che si spacciavano Magari per genitori Magari non lo erano Avevano dei bambini Che gli sono stati dati In affidamento Da crescere Noi non lo sappiamo Come sono Io da parte mia Della mia famiglia Soprattutto materna Sono di storie Che Veramente Sono Dici Ma come Possibile Erano altri tempi Sì E prima di quei tempi Com'era Perché io Voglio sapere Com'era poco Prima di quei tempi Perché poi Siamo arrivati Al medioevo Che sono stati Questi 100 150 anni Che c'hanno Fotto passare In completo Analfabetismo Andando in giro Col carretto I buoi Le ruote di legno In mezzo al fango Questo è Ma prima Non era così Quindi tutte le storie Che mi raccontano Dei romani Che costruivano Gli acquedotti I ponti romani I greci Le sette greche Le prendo tutte Per storie Tipo Babbo Natale Perché per me C'è stato Un demiurgo Che ha costruito Tutto Per Per tutti Non lo so per quale Funziona a questo punto Che però Vedo molto Molto Bene armonico Ok Che segue Geometrie sacre Dal fiore della vita Ai vari rosoli Nelle chiese Tutto mi fa pensare Alla cimatica Quindi all'acqua Alla ionizzazione Alla creazione di energia Ma in un mondo bilanciato Equilibrato Dove Regnava armonia E pace E poi Qualcosa è successo E E siamo qui A immaginare Cosa può essere successo Io posso solo immaginare Non ho fonti Non voglio essere la fonte di nessuno Semplicemente stimolo qualcuno A fare dei ragionamenti Poi Certo Certo Grazie Ricchi Grazie Stefano Grazie a voi Grazie a te Per averci Per avermi Ospitato Allora Nel commiato Chiedo aiuto La matematica Negli ultimi Seicent'anni Soltanto in America 276 città distrutte Più di 100 milioni Di indiani E in tutte le altre parti Del mondo Intere zone Seppellite Centinaia Di città In Siberia E altre migliaia In tutta questa porzione Di mondo E si parla Di 20 miliardi Di uccisi Quindi La proporzione La potete fare Adesso Sembra che loro Si divertono A farne anche Il gioco Delle proporzioni Quindi Diciamo che In proporzione Noi che saremo Adesso Due miliardi Non ci arriviamo Ecco Immaginate La proporzione Che faranno In seguito Se glielo Permetteremo Se Deo Ex machine Glielo Permetterà Quindi Quando si parla Dice come è possibile Che hanno Camuffato Ma qui parliamo Di Di un massacro Non indifferente Qui parliamo Veramente Come il discorso E questa è matematica Come il discorso Dei 300 anni Davanti e indietro In cui si è appurato Che Gli americani Di colore Non hanno nulla A che fare Con i neri Dell'Africa Perché anche Mettendo tutte Le navi Che hanno portato Le presunti navi Schiaviste Che hanno portato Dall'Africa In America Arriviamo A 800 mila Anime Grasso Che cola Senza contato I naufragili Invece Loro parlano Solo Dei 20 milioni De neri Importati Quindi Poi quando vai A analizzare Proprio La loro Etnia Accorgi Che non c'è Nessuna Attinenza Fra i nativi Neri Americani I nativi Africani Quindi È Falsificato Tutto ai vertici Le storie Sono avvenute Ma sono avvenute In una forma Che c'erano altri personaggi E vi ripeto Immaginate Le migliaia De città E tutto questo Si è svolto Secondo Quello che ho dedotto In 600 anni Quindi parliamo E si parla Di 20 miliardi E più La terra Questa porzione Di terra Era popolosa Quindi Quando rimaniamo Quattro gatti Diciamo così In rapporto Non è difficile Fare che le cose Specie quando hai tolto A noi Tutte le nostre mode E ci hai rinchiuso Dentro queste città Ormai prive De vita Prive di quello Che era L'utilizzo Che si faceva a noi Noi abbiamo avuto Ancora qualcosa Dai nostri nonni Cose che si diceva Usciamo fuori Com'è che si diceva A fine settimana Si andava fuori porta Perché per noi A settimana Si lavorava In città Pura Roma Tutti Io sono abruzzese I miei Poi si sono trasferiti A Roma A lavorare A rinchiudersi In là Ma non si vedeva L'ora Ad arrivare A fine settimana Per poter andare Fuori porta E si andava In Abruzzo Si andava A Puscinaro Su a Campotosto C'era il fiume C'era Le montagne C'era Le scampagnate C'era tutto E lì Te ricaricavi Lì Te sentivi Che quando ripartivi A sera Con le 8.50 Fiat Con i Citroen Squali Con i 131 Si vedeva Sta carovana De Sinca Sacco I paesi Tutti vivi Perché c'era Tanta gente E si incontrava Purtroppo Pure qualche Cari bestiani Insomma C'era vita Adesso Quando Sono andato Da Roma All'Aquila Leonese Tutte Arso Riccardo Tutte morte Tutte città Alla Bonelli Che è un massone Tutte città Fantasma Quindi voglio dire Non è difficile Per me Sapendo di quello Che scrivi Passare da 20 miliardi Da tutte queste città Distrutte E poi a inculcare A gente Che chiudi In un serraio A un greggio E inculcarli Così A storia Così 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 Quindi Io dico Pensiamo sempre Che in fondo Noi staremo Pure A una fase Abbastanza finale Su certe cose Ma Come mi ha detto Un amico Pino Ci abbiamo ancora Tante Tante esperienze Da Da passare Quindi La speranza Deve essere sempre L'ultima a morire Invito tutti Ad andare avanti E non preoccuparsi Troppo Quello che deve essere Sarà Ma in ogni caso Non siamo proprio Con le spalle al muro Grazie a tutti Grazie a De Francesco Ovviamente Tutti Quelli che hanno seguito La puntata E dico solo questo Che Per quanto mi riguarda La storia Sicuramente È un punto Abbastanza difficile Da andare a comprendere Perché è facilmente Manovrabile Manipurabile E quant'altro E molto spesso Io almeno Mi sono trovato In situazioni In cui Mi sono lasciato Un po' Prendere Dalla ricerca E non sono riuscito A vedere le cose Diciamo Da un punto di vista Un pochino più Oggettivo Facendolo Mi sono reso conto Che a volte Mi mancavano Appunto Delle conoscenze Mi mancavano Appunto Dei punti Per poter tirar fuori Delle teorie Su un qualcosa Che già è difficile Di per sé Ragionarci sopra No? Però se Ti mancano Anche Di dettagli E delle esperienze È ancora più difficile Riuscire a fare Un quadro chiaro Della storia Dell'essere umano Tant'è che Infatti ad oggi Ci sono Tantissime Teorie Tantissime persone Che studiano Argomenti di diverso tipo Tutti molto validi Però Rimaniamo ancora Secondo me Sotto certi punti di vista Con un punto interrogativo E forse è anche Quello un po' Il bello Cercare di rimanere In ricerca Che una volta Che è un'altra ricerca Forse poi Finisce tutto Invece noi qua Cerchiamo di continuare A portare opinioni Idee Che E informazioni Dimmi il canto Adrian Guarda in controttendenza Quello che ci dicono sempre Che il mondo È sovrappopolato 8 miliardi Sono troppi Io quando vedo Vedo Quando volo Vedo Lande desolate Lande deserte Sotto di me È una cosa molto interessante Stefano Che siamo 8 miliardi Siamo pochi Gli altri Sono tutti ammazzati Perché in queste aree deserte Dove c'è il deserto lì Tipo in Africa Nel deserto del Sahara Lì chissà cosa Tutto hanno fatto Perché quella zona lì Che era Che era di foreste Lai Di fiumi L'hanno completamente cancellata E questo è stato di fatto Per cui Alla fine Bisogna vedere Ci hanno veramente Messo tutta la E ci hanno ribaltata Noi abbiamo Facciamo una battuta Pochi ma buoni Insomma Pochi ma buoni Siamo i supe Siamo solo I supe Sì Hanno coperto tutto Avete visto in Germania Come la Germania L'hanno veramente L'hanno rasa dal suolo E le città Che conosciamo noi I palazzi E questo è tutto successivo Con una cosa Tecnologia Tartara Sicuramente Ma prima Era diverso Era diverso il mondo Le città erano Le città Che c'erano Vendono a me come città Prima erano Le aree industriali Dove c'erano queste cose Che erano Al servizio Della produzione Dell'energia Per le comunità Dell'uomo Fondamentalmente Secondo me Poi hanno cambiato Funzione della storia Dai Adesso mi sto zitto E vi risaluto Anche a chi ci ha seguito Comunque Comunque Possiamo Se vi fa piacere Fare anche una parte due Tutti insieme Perché sicuramente Qua gli argomenti Sono tanti E io stasera Vorrevo intanto Introdurre Diciamo Questo tipo di ragionamento Insieme a voi Magari la prossima volta Portiamo anche L'amico Ludovico Che è da un po' Che ci sta Al proposito di Melting Lui ha fatto La conferenza In Finlandia Appunto Quindi magari Facciamo una puntatina Anche insieme a Ludovico E facciamo una parte due Di una serata simile Se vi fa piacere Bene ragazzi Io non mi ricordo Di averle mai viste Sinceramente Bella domanda Questa però Però mi sembra Di non averle mai viste Non ci ho mai notato La prossima volta Che volo di notte Osserverò Però non mi sembra Di ricordare Di aver visto Ce l'ho stellato All'aereo di notte No no Non si vede Ci ho pensato Un sacco di volte Anch'io Non si vede Ce l'ho stellato di notte Almeno Quello che ho potuto Vedere io Le stelle Non si vedono Quando sta in aereo Comunque vabbè Questo magari È un argomento Per la prossima volta Ragazzi Buona notte a tutti Buon fine settimana E ci vediamo Lulevì Ciao a tutti Buon notte Buon notte a tutti Mi chiamo io In un videogioco Dove tutto si ripete Ciclicamente Ci sono Player One E personaggi Non giocanti Che tengono in piedi La Matrix E tu che cosa sei Da che parte stai C'è un grande multiverso Là fuori Fatto di luci e colori Effetto Mandela Ci confonde Reality Shift Funzioni Di donne Che collassano Creando quella Che tu chiami In realtà Che tu chiami In realtà La verità Nessuno la conosce Probabilmente Nemmeno esiste La vita è fatta Di punti di vista L – La vita è fatta Fonda Mamma �era U Grazie a tutti.